Buonasera a tutti, chiedo al segretario se c'è il numero legale. C'è il numero legale. Dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Nomino scusatore per la seduta e i consiglieri. Maria Bonato, Giacomo Manfrin e Riccardo Piccinato. Arriveranno in ritardo il Consigliere Mauro Tavella, Francesco Giannelli, Marco Salvador e Dario Zanotti. No, Dario Zanotti è arrivato. Bene, do subito la parola al Signor Sindaco per una commemorazione. Prego, Signor Sindaco. Buonasera, prima di cominciare i nostri lavori volevo condividere con voi un momento tutti insieme in memoria di Nelson Mandela. Nelson Mandela, come sapete, è morto il 5 dicembre, quindi pochi giorni fa. È stato, penso, un annuncio che ci ha colpiti tutti. Sì, era malato da tempo, è vero, però sembrava che il leone ce la potesse fare ancora una volta, ancora per un po' di tempo. La città di Pordenone ha seguito la storia di quest'uomo, lo sapete, con grande attenzione, anche nei tempi in cui Mandela era in carcere. In carcere lo è stato per 27 anni, per provare le sue idee e per lottare per il suo paese. Lo abbiamo, e abbiamo dato, ve lo ricordo, abbiamo dato la cittadinanza onoraria a Nelson Mandela nel 1989, quando ancora appunto era in carcere. Abbiamo seguito Nelson Mandela come Presidente della Repubblica Sudafricana, con quell'animo che sempre l'ha contraddistinto, una persona che mi è stata passata da Gianni del Ben la poesia che lui amava ogni giorno recitare in carcere, che si chiama appunto Invictus, cioè mai sconfitto, e che alla fine recita nell'ultima quartina non importa quanto stretto sia il passaggio, quanto piena di castighi la vita. Io sono il padrone del mio destino, io sono il capitano della mia anima. Ed è stato proprio questo, credo, che il suo spirito sia nell'affrontare i 27 anni che credo soprattutto dopo, quando è riuscito, penso in un modo che ha sorpreso davvero il mondo intero, a gestire il passaggio dall'apartheid a un regime di tipo diverso, in un clima di pacificazione che ha insegnato molto. Allora, io penso che l'amministrazione e tutti noi vogliamo esprimere il cordoglio della comunità per questa perdita e vogliamo soprattutto cercare di mantenere viva la memoria proprio per gli insegnamenti che lui ci ha dato, per questo senso della coesione del suo Paese, che lui, come grande leader, soprattutto nella prima fase della trasformazione del Sudafrica, sicuramente è riuscito ad interpretare fino in fondo. Chiederei al Presidente un minuto di silenzio. Grazie, signor Signor. Prego. Grazie. 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 Presidente. Signor Sindaco, signori colleghi, come lista civica del fiume chiediamo all'amministrazione, come ben ricordato il Signor Sindaco, il Presidente Ernesto Mandela, noi siamo onorati di averlo come nostro concittadino e quindi chiediamo, sempre nella possibilità di questa amministrazione, di dedicare domenica 15 dicembre in questa sala consigliare la possibilità a chiunque dei cittadini voglia partecipare la proiezione, credo che andrà in diretta TV, del funerale di Stato di Ernesto Mandela e quindi lasciare aperta questa sede, il luogo della democrazia di questa città, proprio per questo momento di cordoglio ma anche un momento importante per la nostra città. Grazie. Ah, mi scusi. Successivamente penso che questo sia già comunque, molti di voi l'abbiamo già pensato, anche magari dedicare un luogo apposito a questo nostro concittadino, che sia una struttura piuttosto che una strada, una via. Grazie. Grazie, consigliere. Consigliere Delben, prego. Grazie della parola. Nel cimitero monumentale di Pordenone c'è la lapide dove sono ricordati i benemeriti del Comune. Fra i benemeriti del Comune c'è anche il professor Terzo Drusin, del quale oggi, stando a quello che è scritto la sua lapide, ricorre il 69esimo anniversario del suo assassino e che è una delle medaglie d'oro della resistenza insieme a Franco Martelli. Io sono onorato che il Comune di Pordenone abbia dedicato a questa persona la benemerenza. Sono anche contento che oggi Lampi lo abbia ricordato. Quello che invece colgo con po' di dispiacere è che ciò che ha fatto il Comune di Pordenone di dedicargli la scuola media Drusin di Via Besaglio, oggi sia diventata ex-Drusin. Io penso che il Comune possa fare qualcosa affinché la figura di questa persona che Pordenone al diaglio d'opinioni considera un benemerito possa altrettanto essere ricordato non solo con un ex davanti. Prego, consiglio Effreschi. Grazie Presidente, nell'associarmi a quanto ha detto il Sindaco in premessa ed essendo anche uno dei consiglieri presenti qui questa sera che nel novembre dell'89 sedeva in questo Consiglio per cui ha vissuto quel passaggio, le chiederei se fosse possibile che una copia dell'atto, del documento che ha conferito la cittadinanza onoraria fosse esposto in qualche parete di questo municipio. perché ci pare che un atto così importante debba rimanere e debba essere presente nel luogo che l'ha in qualche modo, che ne è stato promotore. anche perché ricordo che quel periodo era un periodo particolarmente difficile e particolarmente intenso per quanto riguarda i problemi che si stavano vivendo. Grazie. Grazie a lei. Consiglio Mazzon, prego. Anche da parte nostra un ricordo, ma un ricordo per l'uomo Mandela. La sua statura io penso diventi, si stacchi ecco dalla statura di tante altre pur positive personalità perché ha un insegnamento anche per noi, è riuscito a mostrare con tutte le scelte che ha fatto, difficili, facili, sicuramente scelte che una persona normale non sarebbe stata in grado di reggere. Ha mostrato che al di là di tutto la politica è in grado di superare anche le convinzioni personali. Noi sappiamo che Mandela è partito con un grande senso di sdegno per quello che era la situazione che riguardava l'apartheid in Sudafrica, ma nonostante questo e nonostante tutti i suoi anni di carcere è riuscito a imprimere un'azione che portava con sé il sentimento di tutta una nazione. Era riuscito poi a superare quelle che erano le divisioni interne, seppur sofferte, noi pensiamo, abbiamo davanti il caso di Israele e la Palestina dove non si riesce a dipanare la matassa proprio perché gli odi reciproci non riescono a far maturare nessun passaggio in avanti. In Sudafrica la forza di quest'uomo è riuscita ad andare al di là del suo sentito personale ed è riuscita a mostrare che è possibile che una nazione cresca su dei valori condivisi nonostante una situazione pregressa di forte contrapposizione, direi in questo caso etnica oltre che ideologica. E quindi un insegnamento per tutti noi, cioè per tutti noi che sappiamo che in quest'aula o in Parlamento o in qualsiasi ruolo istituzionale, il politico deve sapere andare al di là di quelle che sono i suoi primi modi di sentire, deve riuscire a produrre qualcosa che faccia bene poi a tutta la sua città, in questo caso a tutta la sua regione, a tutto il suo Stato. Quindi la capacità di volare è un pochettino più in alto. Allora io penso che questo faccia di lui la statura di una persona che sia al di là degli atti, una persona che lascia una traccia sulla nostra vita, lascia una traccia sul nostro modo di pensare. Io penso che il ricordo non vada dimenticato proprio per questo. La statura dell'uomo è una statura inarrivabile, è una statura estremamente importante per tutti. Resti un esempio con quei segnali che riusciamo a dare, ma resti un esempio per tutti noi. Grazie consigliere. Consigliere Iberti. Grazie Presidente. Non possiamo che associarci anche noi come gruppo al ricordo di Nelson Mandela per quello che ha rappresentato e apprezzandone soprattutto le doti di sintesi che l'hanno contraddistinto. Forse mi ricollego a quello che ha detto il collega Manzon che mi ha preceduto. Francamente quindi ci associamo nel ricordo di Nelson Mandela. Apprezzo quello che ha detto il collega Manzon sull'importanza di riconoscere certe personalità politiche. Apprezzo anche la scelta del sindaco di rivedere un attimo quella che era la posizione forse dell'amministrazione che l'ha preceduto. Io ricordo che in questa sala avevo chiesto un minuto di raccoglimento quando era scomparso senza che voglia magari fare dei paragoni, però avevo chiesto un minuto di raccoglimento quando era scomparso Aider, mi era stato risposto che i minuti di raccoglimento si facevano solo per personaggi italiani. Ecco, io ritengo forse che questa amministrazione ha un attimo rivisto la posizione dell'amministrazione che l'ha preceduta, riconoscendo chiaramente la levatura dell'uomo e la levatura del politico. Quindi, volevo concludere sulla proposta del fiume. Francamente, non so, sarebbe sicuramente una cosa bella riuscire a tenere aperta la sala per la trasmissione dei funerali di Mandela. Non so questo quanto potrebbe costare incidere sulle casse del Comune in termini straordinari del personale, eccetera. Ritengo che in un momento come questo e anche quello che stiamo discutendo, che andremo a discutere fra poco sul tema del lavoro, magari sono risorse che potrebbero essere impiegate diversamente. Credo che se le fanno vedere in televisione ogni cittadino potrà guardarsi la casa sua nella tranquillità della propria abitazione e non per questo vuol dire che la città di Pordenone non vuole ricordare Nelson Mandela. Da ultimo, sempre sulla proposta di intitolare una via, una piazza, un luogo a Nelson Mandela, prego, porta aperto, grazie Presidente, grazie Presidente, questa è la tolleranza di qualcuno, Scusi, fate terminare. Grazie Presidente, stavo dicendo da ultimo con l'intitolazione di una via, di una piazza, di un luogo a Nelson Mandela, non possiamo che essere a favore, riconoscendo, ripeto, la levatura del personaggio, chiaramente mi sembra, e anche qui rispondo con quello che mi era stato risposto dall'amministrazione sindaco che l'ha preceduta, che c'è un rigido elenco a cui bisogna attenersi, quindi quando il nome di Nelson Mandela arriverà in discussione saremo ben lieti di accettare la proposta, grazie. Grazie Presidente, Presidente Bortoli, prego. Sì Presidente, colleghi, è facile oggi dire ciò che è stato già detto per questo grande personaggio che ha insegnato al mondo che la tolleranza e la sopportazione delle fatiche è una cosa che fa onore alla nostra umanità, però vi devo esternare quello che sentivo in questo momento io come persona, come magari uno che è nato all'estero, ci ha vissuto per tanti anni, è tornato nel suo Paese, dove ancora oggi riflette sulle discriminazioni che vengono fatte in Libia dai connazionali di Nelson Mandela, da gente che proviene da quelle terre che vengono bloccate in Libia, bastonati, seviziati e poi scaricati in questo Paese che pensa di risolvere i problemi del mondo. Ma anche, mi viene in mente, qualche italiano, abbiamo due marò fermi in India che ci fanno riflettere, abbiamo dei carcerati laziali in Polonia, naturalmente che rimangono fermi lì, ma abbiamo anche delle famiglie in Congo che non riescono a venirne fuori da questo, mandate magari da qualche nostro ministro tradottare i bambini. Lei interviene dopo, consigliere, lei interviene dopo, capisce? Io sono un consigliere comunale che ha il diritto di intervenire e parlare, senza essere interrotto, chiaro? Prego. Chiaro su questo? Bene. Allora si assicura di che puoi intervenire dopo? E si mette, si prenoti là e dopo parla lei. No, va bene, comunque è stato interrotto, se mi permetti. Ecco, bene. Ecco, allora dico, sono tutte queste che in questi momenti ti fanno riflettere, perché la storia deve insegnare. Questa umanità è rimasta impassibile per tante ingiustizie al mondo. Possiamo metterci dentro anche la Seconda Guerra Mondiale, possiamo metterci dentro il milione di morti di Utu e Zuttu che abbiamo avuto in quella parte dell'Africa, no? Però queste passano in secondo ordine, perché nessuno di quei rappresentanti è stato ricevuto nelle grandi congregazioni europee, ONU e via dicendo. Un milione di morti a colpi di macete. Forse queste cose tutti ce le dimentichiamo. E allora è giusto ricordare questo grande personaggio che si è abbattuto per non avere discriminazione nel mondo, come Martin Luther King, d'altra parte, che non è da escludere. Ecco perché io mi associo a quello che ha detto Bianchini e agli altri per ricordare in questo consesso, il Pordenonese, visto che è un nostro concittadino, la memoria di questo grande personaggio. E mi associo al gruppo che vuole onorarlo e lo vuole verificare quando ci saranno questi grandi funerali di Stato, che tutti parteciperemo e ne ricordo però anche di quelle cose che vi ho detto. Grazie. Grazie. Consigliere. Consigliere Pedicini, prego. Sì, grazie. Molto brevemente, Presidente. Vedete, io sono quasi, come posso dire, sarei quasi più favorevole quest'oggi di consegnare la cittadinanza onoraria della nostra città, Nelson Mandela, che nell'anno in cui gli fu conferita. Per un motivo molto semplice. Perché il vero Nelson Mandela che noi oggi rimpiangiamo non è tanto quello della lotta che faceva per la libertà del suo popolo, così come lo fanno in tante parti del mondo tanti altri uomini, degni quanto lui, ma per quello che ha rappresentato il giorno dopo. Quando lui è stato liberato ed ha vinto la sua battaglia, non si è vendicato contro i suoi nemici, contro i suoi carnefici, contro i suoi carcerieri, ma ha capito che l'interesse del suo paese era più importante anche di tutte le sofferenze che aveva sofferto lui e che avevano sofferto i suoi simili. Questo è il vero Nelson Mandela. Perché vedete, in tutti i paesi del mondo ci sono persone che lottano per la loro libertà e lo fanno in modo pacifico o attraverso la lotta armata, è indifferente. Il problema è dopo, quando si deve governare, quando si deve confrontarsi con quelli che erano i tuoi nemici e che il giorno dopo, nell'interesse della tua nazione e del tuo paese, devono diventare anche tuoi amici. Allora vedete, lì Nelson Mandela ha dato veramente un esempio a tutto il mondo ed è giusto che il mondo oggi gli riconosca questo esempio, perché lui l'ha praticato nei fatti, non nelle parole. Non ha fatto una lotta politica, lui ha fatto una lotta di indipendenza, una lotta di libertà del suo paese, ma dopo ha saputo capire, ha saputo non vendicarsi contro i suoi carnefici. Questo è fondamentale. Allora io mi domando quante volte noi non riusciamo ad essere tolleranti neanche dell'opinione degli altri. Noi riusciamo ad essere intolleranti nei confronti per una serie di pregiudizi, riteniamo di avere la verità solo da una parte. Ecco, io spero che questo ci sia da esempio, veramente. Oggi io gli darei veramente la cittadinanza onoraria, quindi mi associo a quanti gli hanno detto di dedicare una via, un luogo di questa città, perché l'esempio Mandela è un esempio che noi dobbiamo prima di tutto riportare su di noi e poi cercare di insegnarlo anche ai nostri figli a quanti vengono dopo di noi. Perché questo grande esempio, vedete, è ancora più importante, a mio avviso, di quello che ha fatto Gandhi, perché riuscire a non vendicarsi con i propri carnefici è una cosa importantissima, che denota un alto senso dello Stato. Ha anche dimostrato di non andare incontro ai suoi interessi personali, perché una persona, sapete, lui poteva uscire dal carcere molto prima di quando è uscito dal carcere, bastava semplicemente che andasse ad accettare le condizioni che gli venivano poste, non le accettate queste condizioni. Quindi ha dato un esempio anche di forza di volontà e di lotta per il suo proprio e ci ha rimesso tutto. Ha avuto la fortuna di poter vivere oltre 90 anni, ma non vi dimenticate che quando è uscito dal carcere aveva più di 70 anni e quindi aveva già trascorso ampiamente la sua vita. Gli ultimi anni della sua vita ha saputo dedicargli effettivamente al bene comune. oggi che c'è molto, e dico anche nel nostro paese, si incorre sempre ai giovani la possibilità, ma questi giovani hanno la stessa levatura, la stessa caratteristica di quell'anziano che è stato Nelson Mandela. Forse è stato più giovane e più innovativo e più rivoluzionario di tanti rivoluzionari, proprio per il suo modo di essere e di fare. Ma, e concludo, dicendo che al di là di tutte le parole, lui ha saputo dimostrare nei fatti le sue idee, ed è forse il vero esempio, lo dobbiamo dare con i fatti, anche noi nel nostro piccolo all'interno di questo Consiglio Comunale e non tanto nelle parole. Nelle parole possiamo dire tutti, ma nei fatti, nel nostro comportamento riusciamo a capire anche se siamo veramente per un interesse collettivo o ancora una volta per un interesse di parte o per un interesse personale. Ecco, io spero che questo sia il vero insegnamento, quindi mi associo al Sindaco alle sue considerazioni, anche quelle dei colleghi in questo campo, e quindi abbiamo colto più che favorevolmente la sua proposta. Grazie. Grazie, Consigliere. Consigliere Pasutto, prego. Grazie, Presidente. Non volevo intervenire perché ritenevo sufficiente il silenzio che abbiamo fatto noi all'inizio, il silenzio che ci ha proposto il Sindaco. È un silenzio che commentavo prima con amici qui, non è mai chiediamo un minuto di silenzio, ma ne facciamo 32 secondi normalmente. Perché del silenzio abbiamo un po' paura, cioè sembra che far silenzio lasciamo spazio a dubbi, a perplessità. Noi questa sera abbiamo parlato di una grande persona, siamo riusciti a dividerci anche su questa persona, perché ognuno di noi ha sentito il bisogno di dare il proprio colpo di pennello. Raccolgo le sollecitazioni che ha fatto il collega Pedicini adesso per dire che o noi siamo conseguenti a quello che diciamo, oppure questo Paese non si salva. Ci siamo divisi questa sera anche sul silenzio di Mandela. Questo lo devo dire perché lo rilevo come un fatto grave. Avremmo dovuto tutti fare silenzio. Sarebbe stato sufficiente. Nessun commento era opportuno. Grazie. Bene. Informo il Consiglio che eccezionalmente ho dato la parola dopo una commemorazione, ma non credo accadrà ancora. Però evidentemente c'era un motivo per l'eccezionalità del fatto. Prego, signor Sindaco. Bene. Completo le mie comunicazioni con due informazioni e due passaggi. Il primo riguarda le nomine per il Consiglio di amministrazione dell'Azienda per i servizi delle persone, casa per anziani Umberto I per il quinquennio 2013-2018. I signori che sono stati, che ho inviato come consiglio, che ho scelto come consiglio di amministrazione sono Virginio Beacco, Miria Kwan, Gianfranco Gaspardo e Mario Marcolin. Il signor Gaspardo, Gianfranco Gaspardo, è nominato in rappresentanza delle associazioni cittadine che si occupano attivamente del mondo del volontariato, come è previsto, peraltro, dallo Statuto. La seconda comunicazione riguarda un prelievo dal fondo di riserva per spese correnti di varia natura che è stato deliberato il 22 novembre 2013. Allora, l'ammontare di questo atto la delibera recita di operare, secondo quanto esposto in premessa, un prelievo dal fondo di riserva della somma di 24.300 euro per l'esercizio finanziario 2013 con destinazione come da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrare. Di procedere contestualmente ad una variazione al piano esecutivo di gestione, di comunicare la presente deliberazione per quanto concerne il prelievo dal fondo di riserva, il Consiglio Comunale entrano 90 giorni dall'adozione. Dunque, per essere al solito più precisi possibili, come sono state la cifra, è stata così suddifisa. Assetto territoriale onde sostenere spese per lavoro interinale per tre operai specializzati per un importo complessivo di 11.000 euro necessari per garantire attività di carattere essenzialmente straordinarie da svolgere nello scorcio di fine anno. In particolare trattasi di interventi di manutenzione sulle strade presso fabbricati comunali per diversi traslochi di materiali presso le scuole per interventi connessi alle manifestazioni natalizie. Secondo, saperi e servizi alla persona per trasferimenti a persone borse sociali per 8.000 euro, questo per l'ambito urbano disagio a Forcia. Attività culturali, ricreative e sportive, per spese di manutenzione di un quadro delle linee elettriche di una delle torri faro del campo di calcio di torre per un importo di 3.500 euro e avvocatura per spese in cariche legali per un valore di 1.800 euro. Le spese legali sono, adesso perdonatemi la imprecisione forse della terminologia, per noi abbiamo vinto due cause con il condominio Torre Iulia riguardante il piazzale antistante al condominio e la seconda, la causa Montini-Nadalucci, hanno fatto ricorso, noi ci domiciliamo per entrambe a Roma, il costo di questa domiciliazione, visto che hanno ricorso, è di 900 euro per un totale quindi di 1.800, come vi ho detto prima. Spero di essere stato preciso nella comunicazione. Grazie. Bene, comunico al Consiglio che alla conferenza dei Presidenti e gruppi consigliari del 3 dicembre è stato deciso il seguente ordine dei lavori. Si inizierà con l'esame della proposta di deliberazione numero 42, relativa all'approvazione del documento strategia e azioni per l'emergenza lavoro a Pordenone, dopodiché verranno esaminate le due interrogazioni e dopodiché si esaminerà la proposta di deliberazione numero 43, fino ad esaurimento. Se rimarrà del tempo, poi verranno trattate le emozioni secondo l'ordine dei lavori. Ho ricevuto quest'oggi il verbale della conferenza HP gruppo e il secondo verbale che ricevo che mi tocca scrivere per dire che non condivido quanto è scritto nel verbale. Possiamo o registrare questo verbale, non riporta esattamente come sono andate le cose la seconda volta. La prima ho portato, e l'avevo già accenato la volta scorsa, e ho lasciato per me. Oggi di nuovo arriva i componenti della conferenza HP gruppo che hanno visto, non riportava il dibattito così come si è sviluppato, c'erano solo due interventi, non erano riportate le posizioni, cioè lo dico solo... Non sul documento di lavoro, non sul documento di lavoro. La sinca poi era... No, ma non era, scusi, non era la commissione HP gruppo. Quando il segretario si è assentato da quel momento la commissione HP gruppo si è chiusa. Scusi, ho il verbale... No, no, se fa riferimento al documento di lavoro non c'entrava. No, no, no. Boh, va bene. Verbale conferenza HP gruppo, adesso io se vuole glielo riporto. Questo mi è arrivato quest'oggi, tanto è arrivato oggi, e sarebbe meglio mandarlo il giorno dopo. Primo problema. Secondo problema, non riporta esattamente... Se si citano alcuni interventi, si citano quelli che ci sono stati, non se ne cita uno e poi si trarre le conclusioni. Non c'è quello come è dato il dibattito. Allora, o si riporta una sintesi in un certo modo, oppure questo verbale non è corrispondente alla riunione così come è stata. Se gentilmente lo dico come mozione d'ordine, la prossima volta o si registra oppure si riporti il verbale così com'è. Poi le conclusioni le condivido perché sono quelle che sono fatte. Ok? Grazie. Scusi, consigliere, per essere precisi, non fa riferimento alle dichiarazioni dei singoli presidenti. Perché sicuramente all'inizio di riunione ho detto... Il consigliere Salvador, poi dice, intervengono i consiglieri Libetti e Freschi con due interventi. Mi sembra che il dibattito è stato un attimino un po' più... Allora, o si riporta, c'è stato il dibattito, io sono intervenuto dando delle dichiarazioni, è intervenuta la consigliera e il capogruppo Piccini, sono intervenuti altri. Voglio dire, non sono riportati. Allora, o si riportano tutti o non si riporta nessuno. Scusi, sì, va bene, però io avevo detto all'inizio della seduta, le dichiarazioni dei consiglieri vengono verbalizzate su loro espressa richiesta, se lei si ricorda. Perciò ho detto, se qualcuno vuole che venga verbalizzato ciò che dice, lo chieda. No, no, allora guardi che il consigliere Freschi non ha chiesto di verbalizzare nulla. Vabbè, comunque ne spaleremo alla prossima riunione. Il consigliere Freschi non ha fatto una dichiarazione da verbalizzare, tanto per cominciare, ed è qui riportata. Il consigliere Freschi non ha chiesto di verbalizzare nulla, ha fatto lo suo intervento e basta, come altri. Qui è riportato. Allora, non importa... No, ma ha fatto una proposta il consigliere Freschi. No, non ha fatto, si è associato, è anche scritto. Vediamo, ha fatto una proposta, sì, di mediazione tra le due proposte che venivano. Allora, va bene, guardi, allora registreremo la prossima volta, c'è la cassetta, poi se qualcuno vorrà sentire ascoltarla. No, perché sento la seconda volta, vorrei voi evitare. Sì, ma dobbiamo, va bene, complichiamo. Va bene. Bene, allora, proposta di deliberazione numero 42 2013, approvazione del documento strategie ed azioni per l'emergenza lavoro a Pordenone, per i contrasti alle gravi crisi aziendali e per il sostegno al lavoro. La parola al sindaco, prego. Abbiamo costruito il testo di questa delibera, come voi sapete, perché molti di voi hanno partecipato, almeno in capigruppo sicuramente, alla discussione del testo, in più passaggi. Vi ricordo che era il frutto di una promessa che avevamo fatto tutti insieme, dopo il Consiglio Comunale Aperto, c'è un refuso nella delibera, non era l'11 ottobre, ma l'11 novembre, che ci impegnava a fare una sintesi di quello che era stato discusso e a presentare un documento poi qui in Consiglio Comunale da condividere. Il lavoro svolto, ho cercato di, in questo lavoro che abbiamo svolto, ho cercato di fare una sintesi, trasformandolo, diciamo, in questo documento che vi è stato distribuito e che percorro adesso velocemente. Noi, sottolineo questo passaggio, prima di cominciare a leggerlo, ma insisto per sommi capi, abbiamo condiviso soprattutto la parte delle cosiddette strategie ed azioni. Ho completato la delibera con una premessa, una, come avevamo detto, accennando alla crisi nel suo complesso e esprimendo, sempre in estrema sintesi, lo stato dell'emergenza e della solidarietà che è richiesta da tutti noi. Nella premessa, e qui ho tratto anche spunto dalle osservazioni che avevamo fatto durante le nostre discussioni, ho voluto sottolineare che la nostra città, la città di Pordenone e il suo territorio, hanno una tradizione dal punto di vista della capacità imprenditoriale, della capacità di fare, fare e produrre, ha fatto sì che questo sia stato nel tempo un laboratorio, una vera fucina di talenti e tutto questo abbia, da un lato, fatto maturare queste esperienze, che sono tangibili, sono un vero patrimonio della nostra comunità, e dall'altro ne ha rafforzato la sua vocazione manufatturiera. Anche se le condizioni sono cambiate rispetto a certo anni fa, proprio per questo patrimonio che è della nostra comunità, noi rivendichiamo il fatto che la continuazione della manifattura e dell'industria manufatturiera si tenga proprio conto di questo fondamentale cumulo di esperienze e di talenti che Pordenone ancora oggi ha. E' proprio questo che ci rende partecipi, da un lato alla mobilitazione generale intorno al lavoro, ma anche ci rende partecipi in termini di coscienza del potenziale che questa città ha nell'affrontare questa crisi. Questo in premessa. La crisi, non ho certo avuto la pretesa di fare un trattato su una crisi internazionale che poi ha toccato tutti, ha toccato l'Europa, ha toccato l'Italia e adesso la nostra regione e la nostra provincia in particolare con questa veemenza. L'unica cosa che ho voluto sottolineare, proprio nella descrizione della crisi, è che a volte da un lato siamo ora sottoposti a concorrenze che definirei sleali, con paesi che dal punto di vista del welfare e dei diritti sono ben lontani da quello che il nostro paese, ma gli altri paesi europei in genere garantiscono. Quindi si va al di là di quelle che secondo me sono le regole che dovrebbero essere rispettate nella concorrenza. Lo stesso riguarda le politiche di salvaguardia ambientale. Qui si fa anche cenno al fatto che in questo contesto di crisi che certo è venuta da fuori, noi ci abbiamo aggiunto del nostro per quanto riguarda la pesantezza dei nostri costi come sistema che contribuiscono sicuramente a non renderci competitivi e quindi sottraggono risorse ad altri comparti in cui potrebbero essere destinate. La nostra regione sappiamo bene che non fa eccezione in questo quadro di crisi, anzi la nostra provincia proprio per quelle caratteristiche manufatturiere a cui ho accennato probabilmente soffre più delle altre province e quindi deve essere considerata con particolare attenzione perché probabilmente è quella che in questo momento paga i prezzi più elevati per questa crisi. Allora in questa emergenza in cui il lavoro è davvero la risorsa che comincia a scomparire, abbiamo ritenuto opportuno proprio mobilitarci tutti insieme in quel Consiglio Comunale ma anche nelle nostre discussioni successive come capigruppo e solo all'interno dei vostri gruppi per capire alla fine che tipo di messaggio lanciare e come mostrarci solidali a ripeto dalle persone che soprattutto nell'ultimo periodo alludo alla crisi dell'ideal standard e a quella dell'electrolux hanno probabilmente raggiunto il culmine, ci hanno fatto capire che stiamo aggredendo le grandi industrie che avevano determinato il benessere e in parte anche la storia del nostro territorio. Allora quali sono le strategie e le azioni che noi qui abbiamo elencato? Allora la prima che ci pare da sottolineare è che la vocazione del nostro territorio, la vocazione manufatturiera rimane al centro dell'attenzione politica perché sappiamo, proprio per le motivazioni che ho detto prima, di poter offrire dal punto di vista della cultura industriale e della preparazione professionale, una forza di lavoro capace di accompagnare sicuramente con la giusta partecipazione e la giusta determinazione non solo la crisi ma soprattutto le fasi della trasformazione che dovremmo affrontare per la crisi stessa. Giudichiamo irrinunciabile l'impegno delle aziende che qui vivono e che hanno capitalizzato i risultati ottenuti proprio dal capitale sociale che questo territorio ha fornito loro, vogliamo che queste industrie mantengono un costante impegno sui terreni dello sviluppo sociale e della cultura industriale, delle investimenti nelle dotazioni infrastrutturali e della formazione, proprio nell'ottica di questa trasformazione a cui andremo incontro, vogliamo e chiediamo e giudichiamo irrinunciabili una serie di chiarezza nei provvedimenti normativi e semplificazione delle procedure burocratiche a tutti i livelli dell'amministrazione pubblica. In questo senso penso che la nostra amministrazione e il nostro comune stia giocando un ruolo convinto. La rivitalizzazione alla fine delle relazioni tra imprese e territorio, come quello già avuto in passato, vi ricordo che la nostra provincia dal punto di vista delle relazioni industriali aveva rappresentato con gli accordi innovativi che erano stati fatti un vero modello di relazioni industriali probabilmente mai raggiunto dalle altre regioni italiane e forse anche in Europa. Si ritengono vitali inoltre, nelle cose che chiediamo, di attivare tutti gli strumenti utili a sostenere l'innovazione di prodotto. Noi sappiamo che abbiamo dei centri tecnologici che sostengono l'innovazione di prodotto, noi vogliamo che siano più focalizzati a quanto le industrie nel nostro territorio richiedono. Vogliamo che la competitività delle imprese possano essere migliorate sia attraverso un aiuto alla loro infrastrutturazione logistica, abbiamo già accennato che sicuramente mettere in gioco il nostro interporto e migliorare la connettività delle industrie locali trasformandolo in un hub darebbe un vantaggio a tutti, sia di attuare delle politiche dal punto di vista dell'infraturazione dell'information technology e della parte delle comunicazioni, sfruttando tutta la fibra possibile che già è stata installata nel nostro territorio ma non ancora illuminata da parte di enti diversi. Sostenere una formazione certificata per le persone, sappiamo che questo è un tema su cui con la provincia abbiamo già segnalato e cominciato delle azioni importanti perché normalmente la formazione veniva così distribuita a pioggia. Desideriamo, quindi siamo assolutamente insieme ed allineati, che venga finalizzata e sia, venga soprattutto condivisa da parte del mondo industriale per proprio accompagnare quei processi di trasformazione e di maggiore conoscenza che sono adesso indispensabili. L'ultimo punto, rispetto a quanto chiediamo come irrinunciabile, riguarda evidentemente il costo del lavoro. è un tema nazionale, sappiamo che questo deve entrare nell'agenda di Roma dal punto di vista delle considerazioni, però a nostro avviso forse non è ancora così marcata la pressione che soprattutto il mondo dell'otrodomestico deve esercitare a Roma per far capire che tipo di azioni in questo campo possono essere proposte e sostenuto. Questo, ovviamente, il fatto del costo del lavoro è qualcosa che deve essere fatto insieme con le organizzazioni sindacali e gli unioni industriali, proprio perché alla fine non si tratta di andare a tagliare la parte del netto in tasca agli operai, ma si tratta di capire il resto della tassazione come possa essere controllata. Infine, sempre su questo punto delle politiche fiscali, trovare, insomma, e prendere spunto proprio da quelle che sono le caratteristiche della specialità della nostra regione per capire, dal punto di vista complessivo regionale, che cosa si può mettere in campo soprattutto per la concorrenza che Austria e Slovenia esercitano nei nostri confronti. Per quanto riguarda l'amministrazione comunale, ritiene come impegno proiettario l'adozione di tutti i provvedimenti rientranti nelle proprie competenze, utili a sostenere le finalità del lavoro, quindi parlo di azioni di tipo politico, perché è evidente che noi non abbiamo un mandato specifico in alcune aree, ma la discussione di questa sera serve proprio a rafforzare la nostra compattezza e darci la possibilità nei vari tavoli a essere decisamente più pesanti dal punto di vista della rappresentatività. L'assunzione di iniziative, quindi di sollecitazione a tutti i livelli istituzionali, regione e Roma compresa, e soprattutto di mantenere all'interno della città il tema del lavoro, il dibattito, l'attenzione verso la mobilitazione che già è valpabile e che credo che sia da tutti stata condivisa in azioni specifiche, nel concerto di questa sera, nelle azioni simboliche che verranno fatte nei propri giorni, proprio per far sì che questa coesione attorno al tema del lavoro non sia di facciata, ma sia di sostanza, e che da tutti noi venga percepito fino in fondo che questa emergenza alla fine non è lontana, per certi versi ci tocca a tutti. Questo è, adesso ho fatto una veloce carreggiata di maggiori punti, che ho sottolineato in questo documento, insisto, vi è stato, ve l'ho personalmente inviato in modo da consentirvi di leggerlo e approfondirlo, questa sera si tratta di dare un segno, quindi alla nostra città, alla nostra comunità, di condivisione di questo tipo di principi, proprio per affrontare tutti insieme, tutti insieme anche con le persone che sono qui e che ci guardano, tutti insieme un anno che sappiamo sarà complesso, difficile leggere la complessità, sarà complesso, ma che ci deve vedere rigorosamente tutti insieme nel appoggiare le azioni di Regione e a Roma, per portarci a caso un risultato di consolidamento di lavoro nella nostra provincia, con particolare riguardo ai due, chiamiamoli cantieri aperti, dell'Ideal Standard e dell'Electrolux. Grazie. Grazie, signor Sindaco. Bene, dichiaro aperta la discussione. Prego, Consiglio D'Oparfida. Grazie, Presidente. Grazie, signor Sindaco. Sicuramente il documento, essendo stato comunque redatto, anche prendendo spunto da vari esponenti di opposizione, di maggioranza del Consiglio Comunale, sicuramente un documento che probabilmente verrà, insomma, magari discusso, ma sicuramente condiviso perché il tema è importante, e la solidarietà ai lavoratori che in questo momento stanno affrontando una sfida difficile, come quelli dell'Electrolux e dell'Ideal Standard e sicuramente anche quelli dell'Indotto, devono vedersi al loro fianco e sostenere per quanto possibile la loro lotta per la tutela del posto di lavoro, per la tutela della dignità della vita e per una qualità della vita che deve essere garantita, come viene citato anche nella Costituzione, visto che è una Repubblica fondata sul lavoro. Però, e lascerò sicuramente ad altri, probabilmente la discussione riguardante il documento, perché ci tenevo a dire qualcosa, magari anche affrontando un po' a muso duro, nel momento in cui ci vuole la solidarietà, non deve essere una solidarietà scontata, ma bisogna anche dirsi le cose, perché sicuramente il Nord-Est è stata un'area che ha prodotto il cosiddetto miracolo, però dietro a questo miracolo, ricordo un libro di, probabilmente vent'anni fa, di Gianno Antonio Stella, si intitolava Skay, insomma, si vedeva che questo miracolo derivava anche da tutta una serie di fattori, e poi ero all'università, quindi una ventina di anni fa, 15, ecco, 15. Ero un miracolo che sicuramente ci faceva, eravamo il fiore all'occhiello dell'economia italiana, ricordo che la provincia di Vicenza produceva una ricchezza pari a quella della Grecia, però già lì si intravellevano alcune problematiche, e in queste problematiche forse sia la classe politica che la classe imprenditoriale probabilmente ha cercato di far finta di niente, perché sì, boh, dai, tanto si risolve, e alla fine i problemi sono molti, agli occhi di tutti, perché sono cambiati i tempi, è cambiata l'economia che forse corre molto più, anzi, senza forse, corre molto più rapidamente delle tempistiche della politica, e delle tempistiche magari del legislatore, ed anche delle riforme necessarie all'interno del mondo economico, e quindi ci siamo trovati a dover affrontare questa crisi, probabilmente partendo un po' in ritardo rispetto a quello che doveva essere la preparazione all'affrontare i grossi cambiamenti in atto. Quindi, oltre a tutto ciò che è stato citato da lei, signor Sindaco, citerei anche che il Comune di Pordenone si facesse promotore di quello che è stato un po' anche alla base dello sviluppo di questa città, ovvero, ricordo, gli imprenditori, tra virgolette, illuminati, che fecero gli istituti professionali, dicendo, abbiamo bisogno di questo tipo di lavoratori, dobbiamo fare in modo che arrivino preparati nel mondo del lavoro per farci che queste aziende possano correre. Adesso, invece, c'è bisogno di tutt'altro tipo di lavoratori. Allora, non evitare che per cercare lavoro i cittadini pordenonesi, e non solo, vadano subito fuori, dobbiamo fare in modo che istituzioni, quindi il Comune, la provincia fino a quando ci sarà, la Regione, le associazioni di categoria, individuino quelli che possono essere i percorsi formativi per far sì che Pordenone abbia, sin da subito, degli studenti che, una volta finita la scuola secondaria, possono già, magari, aprire delle attività su questo territorio, senza che debbano andare, magari, ad aprire delle piccole aziendine in Irlanda, delle aziende nella, come si chiama, la Silicon Valley, cioè, fare in modo che non si guardi soltanto al discorso dell'aspetto fiscale, non si guardi soltanto al discorso dell'aspetto fiscale, sicuramente importante, sicuramente un peso, una zavorra per quanto riguarda le attività economiche italiane, ma soprattutto che si guardi al tipo di attività imprenditoriale o attività economica che deve essere intrapresa da qua a 15 anni nella Pordenone del futuro. E per far questo, signor Sindaco, ecco, lei, in quanto rappresentante di questa amministrazione, deve andare a prendere per le orecchie e i rappresentanti dell'attività economica e dire, guardate, qua è inutile che si continui a produrre questo tipo di prodotto, si può fare business, ma con altro tipo di prodotto, ci sono degli ottimi esponenti del mondo dei giovani imprenditori a Pordenone che si stanno dando da fare e hanno delle idee brillanti, ecco, penso che insieme a loro si debba individuare quello che deve essere anche il percorso formativo per far sì che gli istituti professionali che tanto bene hanno fatto in passato forse devono rivedere un attimino i corsi. E bisogna anche andare dagli imprenditori, probabilmente non cittadini, ma dell'Interland, per dire anche che va benissimo quello che deve fare lo Stato deve fare lo Stato e deve farlo il prima possibile, quindi di nuovo il discorso dell'imposizione fiscale, ma bisogna anche far capire a questi imprenditori che si deve anche intravedere e comprendere lo sviluppo dell'azienda anche sfruttando ed utilizzando quelli che sono gli strumenti moderni a disposizione dell'imprenditoria. Faccio un esempio, e non me ne abbiano male chi magari può interpretare male questo esempio. Se c'è la possibilità per un determinato tipo di lavoratori di beneficiare del home office, lavoro a casa, questa è una cosa che l'imprenditore deve valutare come una possibilità di poter avere un impiegato che può lavorare da casa, in questo modo magari lavora più volentieri perché riesce a combaciare anche determinati impegni magari di carattere familiare, e senza andare a incidere negativamente su quello che è l'andamento dell'azienda. E allora, nel momento in cui c'è questo strumento da sfruttare, l'imprenditore non può dire no, ti te gada a venire in azienda perché te voglio lì. No, questo è un modo vecchio di pensare che ci porta ad avere le coste aziendali che sono veramente enormi e che poi alla fine vanno a gravare su quello che è il costo aziendale totale per cui il business probabilmente è meno remunerativo. E questo lo dico perché fortunatamente ho la possibilità di viaggiare a vedere diversi tipi di aziende. parlando con imprenditori stranieri mi dice ma d'altronde se io lo faccio lavorare da casa non mi chiede quelle 150 euro in più che derivano dalla benzina al mangiare fuori. Lavoro da casa posso controllare tranquillamente quello che è il suo lavoro posso farlo tranquillamente mi costa meno il lavoratore anche contento di poterlo fare. Questa è una pecca che qua nel nord-est è molto forte per quanto riguarda l'imprenditoria e deve essere un discorso di mentalità essere aperto alla mentalità a quello che propone la modernità la tecnologia sfruttare la tecnologia vuol dire anche sfruttare quelle che sono le soluzioni innovative che permettono di abbassare i costi aziendali senza dover per forza significare che si utilizza una manodopera di poca qualità. Quindi mi raccomando lei so che su questo tema ci crede faccia la sua parte. però chiudo il lato del problema del mondo del lavoro legato al documento e signor sindaco io guardi apprezzo lei è veramente in prima linea però un esempio deve arrivare anche da parte dell'amministrazione comunale che lei presiede perché quando si parla di Electrolux Ideal Standard e altre grandi aziende il comune di Pordenone può fare da trade union ma più di tanto altro non può fare però lei signor sindaco può fare molto per quanto riguarda la piccola imprenditoria cittadina mi riferisco ai commercianti in questo momento sono con la pena di morte sul collo per quanto riguarda la Tares per quanto riguarda la Tares ed è una gravissima pecca da parte della giunta comunale o quantomeno da parte dell'assessore che presiede quanto meno da parte dell'assessore che presiede il medesimo assessorato da più di 5 anni perché se è vero se è vero no no l'assessore all'ambiente sapeva benissimo che si doveva arrivare alla Tares ma non è stato fatto niente dall'assessore competente e da parte di Gea per individuare quanto viene prodotto dei rifiuti per quanto riguarda le attività commerciali questo sarebbe stato l'unico strumento a disposizione da parte della giunta comunale di poter abbassare la tassa sui rifiuti per quanto riguarda le attività commerciali non c'è si può cavare dicendo è una tassa dello Stato no perché altre giunte comunali hanno cercato di intervenire da tempo cercando di abbassare quelli che potevano essere i costi i costi della Tares per fare in modo che tipo a Spilimbergo tipo a Spilimbergo so che c'è stato un fondo che forse sembrerebbe a quanto apprendo dalla stampa che possa essere uno strumento che magari anche l'amministrazione comunale vuole utilizzare ma quello è uno strumento relativo quello che non è stato fatto a Pordenone e che potevate fare a Pordenone Assessore Conficoni guardi sono educato ma se mi fa arrabbiare inizio a rarle dietro perché lei è cinque anni che sapeva che sarebbe arrivata alla Tares e non ha fatto niente si è soltanto vantato di essere quello che fa la raccolta riferenzata più bella del mondo ma per quanto riguarda le tasche dei cittadini nessuno se l'ha accorto quindi lei stia zitto perché in questo momento in questo momento non si può fare la faccia di quello che dice non sapevamo niente scusate 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 vediamo di ritornare nei limiti della correttezza allora prego consiglio allora questo è un attacco che non deve essere consentito stiamo parlando di lavoro delle attività commerciali che si vedono la Tares salita da 1800 euro a 6000 euro quello è un lavoro da parte di piccole attività cittadine che sono qua presenti che operano sul territorio e che non sanno come poter pagare la Tares e se si viene se gli si viene detto la potete pagare in modo rateizzato non è mica un modo di dire tranquilli è risolta la questione sono soldi comunque da pagare quindi quindi visto che sto parlando con il signor sindaco che è ben disposto a differenza da altri che probabilmente hanno la coda di paglia signor sindaco lei deve imporre e deve dare una linea politica per cui anche dall'amministrazione deve partire un segnale quest'estate lei voleva ridurre la giunta da 8 a 6 state facendo un piano di una rivisitazione degli organigramma dei dirigenti per quale motivo a questo piano di rivisitazione dei dirigenti non corrisponde anche un piano di rivisitazione della giunta deve dare un segnale passare da 8 a 6 far vedere che in tutto quello che si può tagliare l'amministrazione comunale può farlo perché è un segnale che bisogna dare qua c'è la gente per strada che fa le proteste al limite al limite della democrazia dobbiamo dare un segnale far vedere che siamo pronti anche noi a tagliare dove si può quindi signor sindaco per quanto riguarda il documento su Electrolux ideal standard sicuramente avrà il nostro sostegno ma per quanto riguarda quello che nelle sue competenze quello che nelle sue possibilità deve fare quello che si è prefissato di fare a luglio tagliare passare da 8 a 6 assessori si può fare lo sta dimostrando con il piano per quanto riguarda i dirigenti comunali lo deve fare anche per quanto riguarda gli assessori comunali e per quanto riguarda la Tares si individui il prima possibile un percorso per abbassare il più possibile e valutare il prima possibile quanto di far pagare in base a quanto viene prodotto grazie grazie consigliere consigliere Pasutto prego grazie presidente discutiamo di un tema molto delicato questa sera viene al consiglio un documento che assieme mi auguro voteremo e come ho detto prima nel breve intervento di prima noi cercheremo di essere conseguenti a quello che andiamo proclamando quindi ci sforceremo di sostenere questo documento dico ci sforceremo perché non volendo dar ragione a qualcuno che il comune di Pordenone non può fare niente su questo sono convinto che il comune di Pordenone può quel poco che può lo deve fare però bisognerà che prima o poi si passi dalle analisi dagli approfondimenti anche a dare delle indicazioni a dare delle precise direzioni fare delle scelte agire concretamente signor sindaco il nostro documento quello che come lista avevamo presentato era era datato 4 ottobre 2012 in cui elencavamo facevamo una serie di premesse sulla situazione premesse che poi sono state fatte anche da altri in cui dicevamo appunto che gli enti locali e le regioni devono fare tutto quello che è in loro potere per proteggere i loro territori e spingere gli organi centrali dello Stato ad operare rapidamente a prendere delle decisioni davamo una serie di indicazioni concrete sulle scelte che questo comune deve fare che tutti noi dobbiamo fare come società e auspicavamo appunto di coinvolgere in una conferenza permanente aperta che tenesse sempre vivo il tema di questa grossa questione che è il lavoro per arrivare a questo documento che stiamo discutendo questa sera nel frattempo poi abbiamo fatto anche appunto il consiglio comunale aperto ci siamo incontrati successivamente e sempre nel nel tentativo di dare un contributo proprio per arricchire questo documento che possa essere in qualche maniera non un esercizio di abilità dialettica ma uno strumento che possa in qualche maniera rendere concreta e visiva anche un'azione del comune davamo alcune ulteriori suggerimenti e dicevamo appunto che le analisi le stanno facendo tutti le abbiamo tutti sotto gli occhi tutti noi sappiamo adesso che cosa sta succedendo la crisi economica la più grossa del dopoguerra è quella che stiamo vivendo noi insomma e resta il problema però di pensare su come dobbiamo uscire da questa situazione noi abbiamo indicato la necessità di cambiare di cambiare cultura di cambiare mentalità anche qui a Pordenone anche come amministrazione il signor Sindaco perché una vecchia mentalità deve essere sconfitta noi probabilmente siamo fermi ancora a vecchi modelli il mondo ci sta cambiando e qualche volta siamo in imbarazzo perché non sappiamo che tipo di scelte dobbiamo intraprendere per dare risposte perché le risposte le dobbiamo dare allora rileggendo tutto tutto quello che avevamo avevamo scritto trovavo delle indicazioni su alcune cose da fare poi lei ci ha fornito prima un elaborato non elementare nel senso scarno ecco ci siamo trovati successivamente lo abbiamo arricchito con i nostri contributi e siamo arrivati a questo documento che è un buon documento è un documento completo nelle sue analisi è una premessa completa l'analisi della crisi l'emergenza la solidarietà che noi dobbiamo fornire ai lavoratori e tutta una serie di di altre analisi che sono le strategie e le cose irrinunciabili ma ci siamo fermati adesso non voglio fare il sapientino di turno fare la predica a nessuno ci siamo fermati ancora una volta a delle analisi allora la perplessità ma ripeto questo mio ragionamento non vuole polemizzare con il documento vuole tentare di dare di arricchirlo se possibile di qualcosa di concreto perché vedo signor sindaco nella parte del deliberato che rispetto alle premesse alle riflessioni alle analisi è abbastanza come dire povera no? ci sono due punti dove diciamo da adottare tutti i provvedimenti rientranti nelle competenze del comune di assumere ogni iniziativa di sollecitazione e il mantenimento di un forte rapporto con la città è un po' pochino secondo me rispetto a tutte le cose che ci siamo detti poi lei ripeto guardi signor sindaco non darò ragione mai a chi dice che non possiamo fare niente che è inutile quello che stiamo facendo non lo dico perché ci credo fermamente che noi da questa assemblea possiamo uscire con un documento e dare concretamente delle indicazioni alle aziende al mondo del lavoro far vedere che ci siamo assieme a noi le organizzazioni sindacali chiunque desideri in qualche maniera operare in questo senso lei ha esordito questa sera dicendo appunto che non servivano trattati no? ma azioni concrete e poi ha elencato tutta una serie di cose la strategia al mantenimento per fare impresa qui ci stava da parte del comune a questa sua giusta proposta dice il comune ha deciso che darà lo spazio X che è libero a disposizione perché in quel luogo si faccia impresa lo daremo gratuitamente interverremo in qualche cesto sto anche come dire dicendo anche delle banalità forse ma dei segnali concreti andavano dati l'impegno per le aziende che vogliamo far mantenere sul territorio ma noi non abbiamo ancora detto niente che cosa facciamo come comune concretamente per farle restare sul territorio queste aziende non abbiamo aperto un tavolo con porcia con cordenosco per dire troviamoci tutti assieme e mettiamo a disposizione un territorio uno spazio qualche cosa perché qui dobbiamo fare l'impresa non deve andare in Austria l'imprenditore deve rimanere da noi perché da noi troverà agevolazioni sburocratizzazioni la documentazione gli verrà fornita in maniera veloce online rapidamente senza tanti passati cose banali cose di nostra competenza poi il resto lo faranno gli altri ad altri livelli chiediamo l'innovazione del prodotto l'innovazione del prodotto la chiedono tutti perché sappiamo che la lavatrice con l'acqua non la compra più nessuno neanche se la fanno in Polonia probabilmente perché adesso avremo strumenti avremo elettrodomestici di nuova generazione induzione eccetera eccetera adesso non mi non mi voglio dilungare in tecnicismi però non abbiamo parlato di poter fornire a questa azienda a queste aziende il collegamento della banda ultralarga per esempio Pordenone è disseminata di Pordenone è disseminata di tubazioni che avevamo messo giù a suo tempo per poter portare il comune potrebbe dire da questo momento riutilizzeremo tutti questi cavidotti andremo dalle aziende che possono collegarsi con questo e daremo la possibilità alle aziende di avere la banda ultralarga per i loro servizi per le loro attività sostenere una formazione certificata noi qui sul territorio abbiamo degli istituti tecnici mi viene in mente il Kennedy piuttosto che il collegio il i geometri che possono essere i veicoli dove la gioventù viene in qualche maniera coinvolta per fare delle proposte per fare delle proposte di formazione anche con quegli istituti e sono tutte caratteristiche della nostra città di Pordenone sul costo del lavoro noi certo che possiamo poco fare sul costo del lavoro sul costo del lavoro perché perché non abbiamo però possiamo intervenire sul costo dell'energia per esempio e quindi possiamo chiedere a gran voce che qui si sviluppino strutture infrastrutture che possano in qualche maniera dare la possibilità alle aziende di ottenere energia a basso costo e c'era chi a Trieste poteva fare non ha fatto e invece sì si sarebbe dovuto fare già da tempo vedo il collega dal MAS al quale non darò mai ragione non darò mai ragione per dire se dirà poi dopo che questa cosa è inutile so già che dirà stiamo facendo una cosa inutile non le darò ragione consigliere insomma signor Sindaco è stato fatto un buon lavoro ci siamo incontrati più volte ci siamo sforzati abbiamo abbiamo fatto sinceramente ci siamo dedicati l'uno con l'altro per trovare una soluzione però questo documento dal quale noi non ci sottrarremo signor Sindaco perché in questo momento non c'è bisogno di mettere il timbro proprio sulle cose c'è bisogno di fare unità l'ho detto prima parlando di Mandela non sentiamo io noi non sentiamo la necessità di mettere il nostro marchio non lo vogliamo fare in chiusura di quel documento che abbiamo presentato in ottobre abbiamo detto che quel documento quella mozione signor Sindaco si ricorda siamo disposti a ritirarla immediatamente qualora condividiamo una cosa unitaria perché è questo che serve al paese però signor Sindaco il Comune deve dire qualche cosa di più delle analisi e delle cose buone che sono state fatte così è troppo poco c'è un documento che strutturato così dice abbiamo fatto una bella analisi ma poi la montagna ha partorito il topolino ecco signor Sindaco poi non sarò io magari a fare dichiarazione di voto sarà Francesca però ripeto da parte nostra nessuna opposizione ha alla condivisione di questo documento perché riteniamo che condividere in questo momento di difficoltà di tutti sia la cosa l'azione più corretta che va veramente incontro alle persone che hanno bisogno in questo momento grazie grazie consigliere Piccini prego grazie presidente signor Sindaco ma dico subito che è vero come ha già detto chi mi ha preceduto per questo per questo documento insomma ci siamo incontrati più volte devo dare atto al Sindaco di aver raccolto in conferenza di capigruppo i suggerimenti che da più parti sono arrivati e quindi di aver confezionato secondo me un atto dovuto che è quello di far sentire in qualche modo la voce della città a seguito di quel consiglio comunale aperto che giustamente abbiamo fatto con l'occasione segnalo novembre c'è un refuso nella ecco non so a me è arrivato questo non so se l'avete già corretto grazie allora su quello che dico anche che non mi impunterò personalmente su nessuna delle questioni che sono state scritte così come non l'ho fatto in conferenza di capigruppo anche se devo dire che rispetto al primo documento l'avevo già manifestato il fatto di cercare in qualche modo letta secondo me male quello che aveva scritto il Sindaco insomma sulla creazione di zone di sviluppo particolare era stata letta in un certo modo negativo invece io su questo sono d'accordo e ribadisco perché se è vero che la provincia di Pordenone ha una vocazione industriale superiore rispetto alla provincia di Gorizia non ci trovo nulla di male che ci siano politiche di maggiore sensibilità industriale o comunque insomma che fa riferimento alle attività produttive per una provincia rispetto all'altra tant'è che vedete inevitabile fare qualche collegamento qualche parallelo con l'amministrazione regionale perché è evidente che come chi mi ha preceduto ha detto il comune di Pordenone può fare alcune cose ma ne può fare di più la regione più ancora le può fare sicuramente lo Stato ma andremo per gradi e se vogliamo scomodare l'Unione Europea ce n'è anche per quella e partiamo da dove eravamo rimasti ovvero sulla differenza della vocazione territoriale ho assistito ai primi di agosto ad una proposta di legge di giunta urgentissima giustamente urgentissima che era quella di dare la possibilità di impiego a 150 credo milioni di euro non so derivanti da un extragettito e di poter in qualche modo dire fin da subito e dare un segnale fin da subito al regionale certo si si parlavo della regione delle attività produttive si perdoni sindaco le cose si intersecano sicuramente e in quella in quell'occasione c'è stato nero su bianco lo stanziamento di 10 milioni di euro per la feriera di Servola a Trieste allora è vero quella è una realtà come dire in forte crisi ma che ha problemi di carattere ambientale bla 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 di contro mentre noi facciamo questo questo stanziamento sul quale credo nessuno di noi possa dire nulla se si tratta di tutela e salvaguardia dei posti di lavoro di contro sento parlare l'ex sindaco di Trieste che siede in consiglio regionale dicendo ma siete proprio sicuri di voler mantenere questo tipo di attività con tutte le problematiche che ne conseguono dal punto di vista dell'inquinamento e ambientale venite con me 5 minuti e vedrete che ritornerete qui o in un'altra parte della città o nelle vostre case e vi soffierete il naso per un paio d'ore e uscirà della polvere scura dico questo perché se è vero e in quel momento in quella seduta io sollevai subito assieme ad altri colleghi credo sempre della nostra provincia ma se stanziamo questi soldi per la feriera di Servola che si trova a Trieste perché non stanziamo pari importo per la provincia di Pordenone che si trova in difficoltà con diverse altre crisi industriali e la risposta fu non si tratta di una crisi strutturale allora questo è un modo di ragionare che a mio modo di vedere non è corretto perché dovremmo cercare di evitare di far di cadere nelle crisi strutturali e distanziare soldi successivamente a meno che non si decida insomma che non c'è più niente da fare e allora le aziende e che è solo il privato a dover intervenire ma non è così per Servola e allora le aziende vanno chiuse e via ho detto questo per sollevare ancora una volta una differenza che a me sta a cuore sempre sempre di più lo ripeto era stata negli anni precedenti e adesso proprio alla luce del fatto che anche nel nostro territorio la crisi morde le risorse tutte anche quelle infinitissimamente piccole sono importanti per quanto riguarda il documento scorrendo ho già detto insomma si condivide e che cosa condividevo ancora di più non c'è pazienza insomma il documento lo voteremo ricordo una questione che è stata detta qui in questo consiglio comunale e che allora mi suonò un po' strana all'udito perché chi l'ha preceduta signor sindaco ha lasciato nel discorso di addio questa città con una affermazione che poi ho ritrovata scritta nei vari giornali della città dicendo abbiamo trasformato la città di Pordenone da una città di fabbriche e caserme ad una città di cultura ed è importante questo sicuramente importantissimo solo che o c'era poca lungimiranza allora ed è un anno e mezzo sì pardon era l'inizio del 2011 quindi due anni e qualcosa fa oppure dobbiamo in qualche modo rimangiarci questo ma non perché la cultura non è importante è importantissima così come ricordo ancora all'inizio di questo nuovo mandato del signor sindaco alcuni colleghi una collega in particolare alzarsi dai banchi della maggioranza e dire no non cediamo neanche di un centesimo sulla cultura perché perché è importante per la nostra città più di qualcuno forse non lo so non mi ricordo oppure mi ricordo ma non mi interessa ricordare chi lo disse allora dico questo sapete perché perché vi do due dati domani inizia la discussione della finanziaria e mentre noi siamo qua a dibattere su questo argomento due macro dati fondamentali credo vadano dati 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 scusate il gioco di parole se le attività produttive stiamo parlando solo di spesa corrente come tutti quanti sappiamo le spese per gli investimenti verranno rimandate all'assestamento di bilancio non si è applicato l'avanzo di amministrazione perché la corte costituzionale ha detto che non si può fino a quando bla 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 non importa però due dati il primo la cultura dispone i capitoli della cultura quest'anno regionale dispongono di 11 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno con una contrazione di risorse a livello totale non vi dico di quanto perché lo sapete già e mentre la cultura ha 46 milioni e mezzo di euro le attività produttive che sono in questo caso costituite da industria commercio artigianato agricoltura cioè tutto e voi sapete meglio di me quali sono i referati che fanno riferimento al vice governatore scendiamo a 46 e 3 2 milioni di euro in meno se voi mi dite che è normale che di questi tempi che di questi tempi la cultura abbia un più 11 milioni di euro rispetto al al preventivo e all'asse stato dell'anno scorso e meno 2 milioni di euro rispetto alle attività produttive e rispetto allo scorso e 12 in meno rispetto allo scorso anno credo che siamo in una strada sbagliata ho detto questo non per spirito di polemica ma perché siccome leggo in questi giorni diversi ritorni come dire sui propri passi rispetto a dichiarazioni fatte in passato e faccio riferimento a questo dicendo che è dell'altro giorno la dichiarazione del vice governatore dice questo sarà l'anno delle scelte di quelle scelte dure credo che queste non siano le prime scelte dure ok secondo argomento il patto di stabilità che comunque in ogni caso farebbe mettere in moto soldi dell'amministrazione e ricadrebbe a sua volta nell'economia di questo territorio super giù credo beh siccome su questa partita fin da subito tutti abbiamo alzato l'attenzione in senso positivo perché i comuni voglio dire no c'è i comuni di Pordenone ma ce ne sono altri 49 50 a livello e tutti più o meno tranne quelli che non arrivano a 5.000 abitanti hanno questo problema allora siccome non era molto tempo fa era in estate e in estate la governatrice mi ha risposto in aula la governatrice Saracchiani mi ha detto a Roma si va per risolvere le questioni leggo l'altro giorno ad un intervento che dice non si può morire di patto di stabilità l'abbiamo letta tutti allora mi chiedo risoluzioni a livello centrale comune sì in prima linea signor sindaco e io apprezzo quello che stiamo facendo secondo livello regionale con stanziamento serio quello che dicevo in capigruppo proposte chiare e concrete se si possono fare se abbiamo i soldi imu dei capannoni si può azzerare per questi due per queste due che sono particolarmente in crisi creiamo una disequità rispetto agli altri non lo so zero IRAP per chi per questi per quelli che vengono ad investire qua come fanno altre regioni ricordava il collega Pedicini in capigruppo per quelli che vengono ad investire qua per i prossimi cinque anni con il vincolo di rimanere qui sul nostro territorio si può non si può non lo sappiamo allora le tutte le politiche positive o comunque con buone intenzioni che vengono messe sul piatto a tutti i livelli vanno vanno sostenute e noi le sosteneremo qui si fa riferimento ad una questione che io ho citato cioè in capigruppo all'eliminazione della burocrazia importante fondamentale e qui vi devo raccontare un aneddoto perché mi riguarda personalmente fa riferimento alla precedente legislatura quando io e un altro collega decidemmo di portare avanti uno degli elementi che complicano la burocrazia che in qualche modo vanno a complicare diciamo così la burocrazia cioè i tempi della pubblica amministrazione beh volevamo portare a 30 giorni tutto per la regione tranne quelli che sono le come dire le pratiche particolarmente complesse sapete dove ci siamo incagliati ci siamo incagliati con l'allora assessore che è venuto a pregarci perché i funzionari regionali i dirigenti hanno detto no mai perché noi ci metteremo di traverso e ci siamo dovuti a rendere questa è una resa che costa carissima allora su questo se ci impegniamo tutti e se c'è qualcuno che adesso lo riesce a fare io inizio a sottoscriverlo fin da ora la banda larga io non lo so dove siamo a questo punto con la banda larga oggi siccome ne ho sentito parlare nei 5 anni precedenti ma di questa questione precisa non mi sono mai occupata sono andata a vedere un po' di dati e ho visto non ho ben capito se sono fondi regionali o se sono fondi trasferiti ma che abbiamo che la nostra regione nei 5 anni precedenti o 3 quelli che sono ha investito 120 milioni di euro allora se c'è qualcosa che ancora non funziona dopo 120 milioni di euro bisognerà capire che cosa c'è e anche da questo punto di vista l'azione deve essere a 360 gradi se invece come dire mancano ancora dei pezzi credo che i 450 mila euro che ha stanziato l'assessore Santoro siano sufficienti unicamente per le per le manutenzioni e di questo passo probabilmente non faremo una grande come dire una grande strada credo che però almeno da questo punto di vista ma il sindaco che è un esperto in questi argomenti beh insomma sicuramente più di me potrà dare qualche informazione in più in chiusura in chiusura che cosa dire io lo ah sì c'è ancora un aspetto che è quello che avevo trovato scritto da qualche parte cioè il discorso e che qualcuno sicuramente ne ha parlato il discorso relativo all'innovazione allora sono stati impegnati tra il 2010 e il 2011 gli ultimi dati non li ho fondi europei e alcuni anche regionali per l'innovazione per 35 milioni di euro e sembrerebbe di capire che o non sono stati sufficienti deve concludere sì sì guardi no sono stati 10 minuti iniziali ma sono 15 ormai mi scusi e chiudo velocemente nel dire che anche da questo punto di vista non so se i fondi che abbiamo investito per l'innovazione abbiamo fatto un buon investimento oppure no certo è lo sappiamo quelli che arrivano dai fondi comunitari che arriveranno per la prossima programmazione saranno gli stessi sarà scelta dell'amministrazione regionale che adesso regge appunto questa regione fare le scelte grazie grazie consigliere consigliere franchini prego sì grazie signor presidente signor sindaco allora a me sembra cioè a noi sembra come gruppo consigliare del fiume che il documento abbia dei passaggi molto importanti ne vorrei solo elencare due perché mi sembrano significativi il primo è la difesa che fa della cultura che in questo territorio si è creata della cultura del lavoro cioè non è una cosa che si crea in poco e che si può ricostruire in poco cioè io penso che il territorio debba essere in qualche modo non voglio dire orgoglioso ma riconoscere i percorsi che ha fatto nell'acquisizione e nella formazione nella capacità di produrre una qualità di lavoro e ben ha fatto il sindaco secondo me nel documento a mettere questo punto come fondante insomma difendiamo il territorio per quella cultura del lavoro che ha prodotto che ha costruito perché una volta che si è perso è difficilissimo ricostruirla secondo me la seconda cosa che mi sembra importantissima è il tentativo che il documento sottolinea ma anche così esprime con grande forza che è quello di mettere insieme tutti quelli che sono i protagonisti della situazione questa non è una situazione che riguarda nel Pordenone nel nordest è più vasto è un momento di crisi vasta per cui riconosco come importante il fatto di dare a ciascuno il ruolo che deve svolgere e cioè il governo la regione il comune e su questo ultimo punto cioè su quello che il comune come ente locale deve svolgere ho cercato di vedere quello che fanno gli altri comuni anche i più importanti del nostro che hanno gli stessi problemi e quello che ho trovato leggendo ovviamente leggendo le delibere leggendo quello che hanno fatto ho visto che tutti si sono in qualche modo orientati nel costruire reti di sostegno reti di sostegno alle famiglie al debito alla gestione finanziaria e alla formazione alla riqualificazione al ricolocamento e mettendo insieme tutti i soggetti eccetera e quindi su questa cosa penso che anche il nostro comune sia in linea insomma nel senso che il fare rete sembrava essere importante però a me sembrava proprio che in questo fare rete volevo così sottolineare un fatto che è successo pochi giorni fa e che secondo me ci deve far riflettere è successo che a Prato sette cinesi siano morti in una fabbrica che non ammetteva in qualche modo dignità di vita non ammetteva che una persona avesse una dignità di vita in quanto la gente che ci lavorava viveva dormiva e mangiava e non poteva uscire se non situazioni evidentemente che non consentivano questo dal posto del lavoro allora io non voglio parlare dell'infortunistica non mi interessa il problema non mi interessa nel senso che non è questo quello che trattiamo stasera ma mi ha molto mi ha molto colpito il fatto che in tutte le interviste sia nei giornali mi sono letto un po' anche le interviste fatte in strada tutti quanti rivolgessero l'attenzione e in qualche modo rivolgessero anche non dico alcuni anche arrabbiati altri più così proponenti insomma si rivolgerono all'ente locale perché non era intervenuto nella gestione della legalità del territorio perché è la legalità del territorio di fatto che rende la competizione uguale che rende possibile lo sviluppo industriale artigianale cioè non è possibile che una industria produca un vestito 60 centesimi contro un'altra che produce il stesso vestito 60 euro è chiaro che in questo caso c'è una disparità di proprio non so come chiamarla ma è una disparità di collocazione in un territorio allora la cosa che mi aveva colpito è che tutti si riferivano al fatto tutti sono rivolte al sindaco e non altre strutture cioè l'ente locale è fortemente coinvolto in questa situazione secondo me il fatto lo dimostra nel senso che se andiamo a leggere le interviste sia dei cinesi sia degli italiani perché lì la situazione è piuttosto complessa non è paragonabile a quello che succede qua da noi penso non abbiamo questa realtà di mille imprese che non si sa bene dove siano e come producano ma io penso che un comune che si desse come etichetta il fatto di assicurare che dentro il proprio territorio il suo maggior così impulso il suo maggior sforzo è quello di assicurare a tutti dignità del vivere dignità del lavoro legalità del lavoro sarebbe una bella etichetta da vendere secondo me cioè penso che il comune di Prodenone chiedesse questo è un comune che si sforza di dire che chiunque lavori qua ha un livello di dignità personale ma anche di dignità di impresa perché noi cerchiamo di assicurare questo con i nostri controlli con la rete di sostegno con tutto quello che vogliamo io penso che sarebbe un buon messaggio ed è quello che volevo trasmettere alla nostra amministrazione perché sono sicuro che sarà sensibile saremo sicuri noi del fiume che sarete sensibili ad accettare questo suggerimento perché mi sembra che sia un fenomeno importante una proposta che va su una cosa anche che stiamo già facendo probabilmente ma che si tratta di rendere come obiettivo del prossimo convivere del prossimo convivere grazie 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 consigliere franchini consigliere tomasella grazie presidente signor sindaco innanzitutto io volevo ringraziare il sindaco anche a nome del mio gruppo perché io ritengo che il consiglio comunale aperto che si è svolto l'11 novembre è stato un momento importante un momento di ascolto importante voluto da tutto quanto da tutta l'aula consigliare è pacifico noi riteniamo del partito democratico che il semplice consiglio comunale aperto non è che uno strumento di sappiamo che uno strumento di partecipazione e di ascolto e che sappiamo che sono necessarie ben altre iniziative per svolgere un ruolo attivo nel frenare gli effetti negativi di questa crisi abbiamo in quella sede abbiamo ascoltato moltissimi interventi sia da parte di coloro che operano direttamente nel mondo dell'economia reale sia da parte anche di tutte le istituzioni di tutti i livelli dai nostri parlamentari dalla regione Friuli Università Giulia dalla provincia e tutti ci hanno spiegato quale gioco stanno facendo in questa fase molto delicata e quindi tornando quindi venendo quindi al documento che oggi lei signor sindaco ha presentato ritengo che questa delibera che oggi è stata messa in discussione è nient'altro che un modo per formalizzare in maniera chiara ed esplicita il pensiero di tutta la nostra comunità rappresentata dall'intero consiglio relativamente alla grave crisi nella quale per molta di parte di essi sono minacciate quelle sicurezze sulle quali si fondono la progettazione del proprio futuro e anche la coesione sociale per questo noi riteniamo signor sindaco che questo documento deve essere votato senza alcuna difficoltà da ogni gruppo seduto in questo consiglio e pertanto auspico sin da adesso che la delibera oggi passi all'unanimità l'amministrazione ci propone una delibera che non contiene solo formule di stile come è stato ribadito da qualcuno nei giorni scorsi ma il documento proposto nella parte del suo deliberato concretamente espone cosa vuole fare l'ente comune e ciò che il comune chiede anche ai livelli istituzionali superiori per il lancio economico del nostro territorio a questo punto vorrei fare uno punto di riflessione su cosa può fare e su come dobbiamo poi attuare collega del ponte appunto per rifarmi al collega Pasut su come dobbiamo poi attuare i deliberati che oggi noi andiamo ad approvare cioè quello che concretamente il comune può fare per contribuire a migliorare la situazione finora è stato detto molto in tantissimi interventi che ho ascoltato anche al di fuori del consiglio la consigliera Apicin ci ha detto quello che può fare la regione quello che ha fatto quello che farà ci ha detto qualcuno ci ha detto quello che dovrebbe fare l'unione europea mi sembra non so forse la stessa consigliera Apicin oppure abbiamo sentito quello che hanno fatto anche altri enti quello che andrò a dire certamente non vogliono essere delle soluzioni ma semplicemente signor sindaco solo degli spunti emersi durante una discussione all'interno del mio gruppo in primis tenuto conto anche però degli eventuali vincoli normativi e finanziari il comune potrebbe nel limite dei suoi poteri e possibilità realizzare delle attività utili a supportare il processo di ripresa a riguardo l'amministrazione potrà certamente svolgere un ruolo di analisi e sintesi dei bisogni della collettività di informazione promozione e coordinamento di iniziative di sviluppo economico e se lo riterrà opportuno può rinessere anche attività più operative a nostro avviso il comune dovrebbe porre in essere azione del cosiddetto marketing territoriale viene definito cioè l'ente dovrebbe creare quindi un contesto che sia favorevole allo sviluppo e renda attrattivo il nostro territorio al fine questo come scopo quello di attirare nuove attività produttive e rafforzare la competitività delle imprese locali esistenti cosa significa concretamente significa colleghi trovare degli elementi delle eccellenze che è possibile valorizzare a livello locale il comune dovrà investire su qualcosa che faccia insomma da volano altro aspetto signor sindaco su cui vale la pena un attimo anche riflettere ai fini dell'innovazione è quella del ruolo sempre del comune come facilitatore ossia l'ente comune per noi dovrebbe cercare di svolgere un ruolo di coordinamento ed anche processi di aggregazione fra le piccole un ruolo di coordinamento di favorire dei processi di innovazione dei processi di confronto e anche dei processi di aggregazione tra imprese quindi creare occasioni che favoriscono questi processi a tal proposito proponiamo un ulteriore potenziamento anche dello sportello unico delle imprese un altro asse di intervento quindi qui noi concretamente le stiamo dando dei consigli per rendere attuabili anche questo deliberato insomma rappresentato alla formazione che deve riguardare sia i dipendenti che gli imprenditori in questo settore la funzione che potrebbe essere chiamato il comune sono quella di promuovere processi virtuosi di individuazione dei fabbisogni formativi in ambito locale promuovere l'attivazione di collaborazioni con partner strategici in primis il consorzio universitario per la soddisfazione di tali fabbisogni e per la realizzazione di interventi formativi mirati queste sono delle riflessioni che siamo consapevoli che non sono certamente soluzioni definitive quindi sono delle proposte che non sono delle soluzioni definitive e che dovranno essere approfondite in termini di fattibilità giuridica e operativa ma noi del partito democratico però signor sindaco confidiamo che il tessuto locale in nostro territorio in un periodo di difficoltà come questa se adeguatamente stimolato darà sicuramente risposte interessanti magari sorprendenti un'altra un'ultima cosa che volevo dire signor sindaco una cosa importante che mi sento di dover raccomandare che anche a nome di tutto il mio gruppo e di questo ringrazio particolarmente in particolar modo anche lei che spesso lo ricorda è quello per quanto riguarda la crisi del lavoro è quello di evitare l'errore più grande che è stato forse anche commesso precedentemente è quello di rompere il fronte unitario per fronteggiare la crisi economica del lavoro nel nostro territorio perché io ritengo perché anzi noi riteniamo che quello di andare in ordine sparso a combattere per vincere una battaglia contro la crisi del lavoro che già uniti sarà molto difficile è secondo noi una sconfitta sicura guai a muoversi quindi una raccomandazione che facciamo tutti i politici di qualsiasi livello guai a muoversi su tavoli personali sarebbe quindi per noi una catastrofe quindi aspicchiamo un fronte comune da parte di tutte le istituzioni a qualsiasi livello dalle parti sociali un'industria forze sindacali per cercare di riuscire così a vincere questa difficile battaglia poi un piccolo inciso per quanto riguarda l'intervento del consigliere Loperfido relativamente alla TARES volevo ricordare forse non era presente il consigliere Loperfido all'approvazione relativamente alla delibera quella che riguardava l'assestamento di bilancio mi sembra che se non ricordo male l'assessore Masse avesse proposto la costituzione di un fondo per venire incontro alle persone ai soggetti che appunto si trovano in difficoltà nel pagamento della TARES concludo e anche in risposta a coloro che appunto sono un po' scettici relativamente sul ruolo del comune che il comune perché avevo sentito anche in commissione capigruppi che il comune non può fare nulla io invece vi ho dato la dimostrazione prima che il comune qualcosa può fare insomma ci sono tantissime cose anche per piccole ma qualcosa può fare quindi potrebbe sul ruolo del comune potrebbe che potrebbe dicendo che è necessario che tutti che quindi anche il comune si adoperano anche nel loro piccolo per fare qualcosa di utile per la collettività seguendo e qui vorrei citare un insegnamento di Kennedy non chiediti cosa il tuo paese può fare per te ma chiediti cosa tu puoi fare per il tuo paese grazie grazie consigliere Tomadello consigliere Dalmas prego ok ma sì allora signor sindaco lei io l'ho un po' osservata in questo periodo penso unitamente ad altri vedendo i giornali e così anche meditando sulle cose che sono state dette l'ho vista effettivamente ho visto un sindaco presente un sindaco a fianco con i lavoratori non c'è una manifestazione di elettro addirittura di del standard come lo c'è di Zoppola diciamo qui il sindaco di Cotterone non fosse lì con la fascia tricolore in difesa del lavoro dell'occupazione io le do atto di una di essere una persona che ha compreso la drammaticità del momento e di testimoniare fisicamente quello che in comune può fare di essere presente e parte attiva di essere presente sarebbe facile fare delle così dei paralleli o quindi ragionare su indirizzi che altri livelli in questo momento hanno dato il vicepresidente della regione ha un'impostazione diversa dalla sua leggermente diversa dalla sua quando dice parlo del vicepresidente della regione non perché si chiama Bolzonello ma semplicemente perché ha le attività produttive quindi ha un referato che come dire in qualche modo c'entra ecco ha detto guardate sul manifatturiero siamo in difficoltà probabilmente non c'è sviluppo puntiamo tutto sul turismo puntiamo tutto sulla moda mi diceva Giannelli puntiamo tutto sul turismo e sull'agricoltura un'agricoltura magari di nicchia insomma cioè quelli sono i settori sui quali impostare no non mi sono no guarda non mi sono assolutamente inventato cioè se vuole cercare polemiche inutili vorrei poter continuare Presidente ecco grazie e questo è stato uno dei primi atti di indirizzo dell'amministrazione regionale di un esponente importante qualificato con grande consenso e ripeto anche il responsabile dell'attività produttiva è anche vero che si deve dire che sia il Vice Presidente Volzanello che la Seracchiani l'ho ascoltata durante il Consiglio Comunale Aperto c'era è presente è venuta va a Roma spesso incontra i ministeri incontra Zanonato la vediamo anche su Ballarò ma questa è una polemica spicciola che nulla a che fare con il tema che oggi stiamo affrontando e quindi vorrei capire da lei se poi interverrà al momento della delibera e quindi con una dichiarazione finale suppongo se voi nel Partito Democratico che oggi ha questa spinta fantastica che gli deriva dall'aver celebrato le primarie con la vittoria di Renzi userà questo linguaggio quello più vicino a quello del sindaco o quello più vicino all'altro cioè di chi pensa che sul manifatturiero abbiamo ben poche chance quindi dobbiamo puntare su altro allora questa è una polemica di rito ma chi sta all'opposizione deve un po' così ricordare queste cose non è vero che non sono state dette io non il consigliere prima mi ha interrotto dicendo dovrei lette ci sono la stampa ci sono state dichiarazioni anche delle delle code polemiche su questo io non so cosa possa fare il comune e credo che con l'approvazione di questa delibera non caberà nulla è un atto di indirizzo non succederà un atto di indirizzo politico ma per tale ragione lo approveremo proprio perché non costa nulla approvarlo non costa nulla approvarlo perché è un atto di indirizzo questo non ha parere di regolarità contabile finanziaria perché è un atto ripeto di indirizzo quindi voglio dire qui lei avrebbe potuto scrivere qualsiasi cosa tanto nella sostanza non lo sarebbe cambiato c'è però un dato sul quale sia chiaro a tutti noi siamo con il sindaco quando dice tutela la città è unita in difesa del lavoro è unita è solidale verso tutte le forme di lavoro che vanno oggi tutelate e questo lo devo dire sicuramente questa parte del dispositivo è la parte vera significativa insomma di questa deliberazione perché per il resto insisto c'è caro Tomasello un esercizio di stile nel senso che qui si sono i concetti ripetuti più volte riscritti ma la sostanza la sostanza è che il comune quando dice sburocratizzo ma cosa e come la regione quando sburocratizzo come sburocratizzo le pratiche no qualcuno al Parlamento aveva proposto di invertire un principio costituzionale dicendo prima tu apri un'attività poi io vengo a controllare ti dico quando vengo a controllare se è tutto in ordine e quindi ribaltare proprio una quanti 50 anni di legislazione che abbiamo oggi in Italia ma questo mi pare che sia libro di sole uno sguardo su come stiamo messi rispetto alla questione fiscale rispetto alle nostre autonomia finanziaria bene molto semplice qui nel documento e lei dice bisogna ricercare delle forme di tali da rendere questo territorio competitivo rispetto ai paesi che sono confinanti la questione si discute da tanti anni va sotto i nomi di fiscalità di vantaggio va sotto i nomi di fiscalità di sviluppo più facile la fiscalità di sviluppo inammissibile la fiscalità di vantaggio così come è stata come ha più volte detto la Corte europea perché l'hanno messa solo per le azzorre quando pensavamo di introdurla in Friuli Venezia e Giulia perché abbiamo confinanti due stati esteri ci hanno risposto assolutamente inapplicabile bene allora ragioniamo sulla fiscalità di vantaggio cioè immaginare che qui abbiamo delle zone per garantire appunto ciò che diceva il sindaco su quale io sono assolutamente d'accordo noi abbiamo una vocazione una tradizione manifatturiera e per quanto c'è possibile dovremmo fare tutto ciò che ci è dato e delle nostre forze sostenendo qualsiasi azione necessaria a difendere il lavoro l'occupazione ma che abbia anche una prospettiva un domani ecco allora che nel documento si cita la funzione logistica infrastrutturale ieri scopriamo che sempre il governatore della regione ci viene a dire che farà la Cimpello Seguaggemona ma la farà senza pedaggio allora io mi attendo di conoscere come avrà questi soldi visto che la finanza di progetto non ci sarà perché la esclude parliamo di un miliardo e il costo dell'opera non so dove verranno recuperati a meno che nella legge di stabilità che adesso lo Stato deve trovare in questi giorni ci siano anche questo regalo della Cimpello Seguaggemona piuttosto che i 150 milioni della terza corsia di cui ce ne sono sono 20 che lo Stato mette dal 2014 tutti gli altri quindi noi sappiamo benissimo come si scrivono i bilanci tu ha posti in tre anni le poste sempre più in là come con l'ospedale di Pordenone signor Sindaco anche qui lei stia un po' più attento su questo cioè ci stanno prendendo letteralmente in giro e io mi sorprendo che l'amico Sergio Bolzonello Sergio Bolzonello non 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 sul tavolo su queste cose perché vi stanno portando via anche i 150 milioni che hanno stati destinati con la scusa che non c'è progettazione e quindi li metteremo dal 2014 anzi dal 2015 aumenteremo il ricorso al mercato finanziario cioè ai mutui ai mutui avete utilizzato e stanno utilizzando i soldi in cash contante per pagare le infrastrutture dall'altra parte quindi questo territorio veramente ecco perché io mi sento di appoggiare la sua iniziativa oggi cioè di aderire a questo documento con il spirito di come dire come quisco del popolo pordenonese come cittadino di questa città non cittadino del mondo perché sarebbe eccessivo e noi non siamo cittadini del mondo viviamo in provincia quindi stiamo qui ecco con questo spirito io dico ok poi per il resto la questione è complicata ed è estremamente complicata estremamente complicata perché a meno che l'industria a meno che il sindacato a meno che tutte le forze sociali produttive insomma tutto il nostro sistema non decida delle scelte radicali di trasformazione degli indirizzi produttivi e questo mi pare assolutamente complicato oggi sento che qualcuno ipotizza patti territoriali benissimo si sono citate si è citata l'esperienza di questo territorio che per prima è riuscito ad individuare delle forme di organizzazione territoriale e dei patti sindacali importanti però mi pare che ci siamo fermati mi pare che il problema vero rimane sempre lo stesso il costo del lavoro numero uno lei lo sa benissimo lo abbiamo ripetuto più volte quanto costa in Polonia quanto costa qui da noi e il costo dell'energia ecco se l'energia costa ma noi non facciamo gli elettrodotti se l'energia costa perché questo paese ha scelto di uscire allora il dibattito oggi non è che voglio parlare di nucleare ma dico ha scelto di uscire dal nucleare quando a neanche cento chilometri da qui esiste una centrale nucleare e rispetto alla quale avremmo potuto potuto stabilire degli accordi per comprare dell'energia ed era questa una cosa che aveva chiesto il sistema produttivo per comprare l'energia perché tanto da quelli non ci salviamo sono tutte queste soluzioni o tentativi rispetto ai quali non abbiamo forse esplorato abbastanza fatto solo un caso parliamo di università benissimo a che punto siamo con l'università di Poldamone signor sindaco cioè possiamo immaginare il mantenimento di un sistema produttivo o una elevata capacità di produrre dei beni durevoli o non durevoli qui da noi per cui siamo attrattivi se non abbiamo il concerto del sistema universitario della formazione dei nostri giovani delle nostre menti mi pare che con l'esperienza che abbiamo avuto dell'università di Poldamone ci sia ben poco da sperare abbiamo visto che gli ultimi salvataggi sono stati per pagare alcune scelte fatte anche dall'amministrazione da qualcuno prima di lei che riteneva che Palazzo Badini dovesse essere il luogo in cui celebrare le tesi di laurea questo ci è costato una follia ci è costato una autentica follia e stiamo ancora pagando quel prezzo ma quando questi signori incominceranno a pagare il prezzo delle loro scelte o il prezzo delle non scelte che sono state fatte evidentemente non sto dicendo lei perché c'era qualcuno prima di dire che ha fatto queste cose ricordo che abbiamo venduto una colonia abbiamo fatto altre cose e per comprare quel palazzo non parliamo insomma di altre scelte sull'edilizia come siamo messi qual è cosa ha fatto questa città dal punto di vista dell'edilizia che tipo di programmazione aveva sotto il profilo del fabbisogno abitativo 3.000 alloggi sfitti 3.000 alloggi sfitti sono stati costruiti e sono lì sui quali si pagano le tasse una attività fondata qual è quella idile completamente in ginocchio non si vende un appartamento non si costruisce più nulla e non c'è quindi solo il problema di elettrolux c'è un problema evidentemente più grande noi tutti lo sappiamo lo conoscono le professioni a tutti i livelli quindi un problema sentito conosciuto dalla città ed è questa forse una delle ragioni per le quali mi permette di dirle il consiglio comunale aperto che qualcuno ha definito un esempio raro di capacità di riscossa secondo me invece ha visto un solo assente la città di Pordenone che non si è completamente vista era completamente assente erano assenti i cittadini di Pordenone questo non è colpa sua signor Sindaco è colpa del fatto che probabilmente viviamo una situazione di malessere molto più grave che non si arresta solo alle situazioni aziendali si concludo quindi il documento in sintesi non dice nulla nella sostanza non può produrre forse grandi risultati se non questa necessaria unità che mi auguro non sia solo di facciata ma una unità è anche un sostegno io mi sento di riconoscere al Sindaco come ho fatto all'inizio del mio intervento sul fatto che l'ho visto presente su questa cosa l'ho visto al fianco dei lavoratori l'ho visto come Sindaco della città e da questo punto di vista devo dirle che per quanto mi riguarda noi e io non posso che riconoscere e riconoscerle questo impegno grazie consigliere consigliere Piccinato prego grazie presidente io parto da lontano perché il problema dal mio punto di vista si risolve da lontano espongo un emendamento che adesso porterò e che verrà distribuito poi partendo dal presupposto che come le ho già detto di persona signor Sindaco voterò favorevolmente il documento da lei proposto a prescindere dal fatto che l'emendamento da me consegnato e firmato anche dai miei due colleghi consiglieri venga accettato o meno ma per un senso di responsabilità ritengo assolutamente che le misure proposte siano utili ma certamente non sufficienti perché ci sono problemi che vanno ben al di là delle competenze che può avere un comune una provincia una regione e credo anche lo Stato italiano in questo momento quello che dal mio punto di vista servirebbe è una profonda ricostruzione del sistema in altro modo cosa che non è fattibile in breve tempo e forse neanche nel medio periodo come diceva uno dei più grandi economisti della storia Keynes nel lungo periodo siamo tutti morti quindi temo che temo che non ci sia così tanta speranza di poter modificare delle cose così più grandi di noi in breve periodo con le misure poco efficaci che vengono messe in campo allora vi voglio elencare un po' di dati perché forse alcuni sono magari non conoscono bene la materia economica ma ragionando un attimo magari possono svegliare una coscienza che può essere assoppita l'Italia da quando è entrata nell'euro ha iniziato ad andare in bilancia commerciale in pesante passivo a differenza di quando invece aveva una moneta sovrana dove era in attivo pesante attivo e l'Italia la bilancia spiego perché la bilancia commerciale è quell'indicatore che dice se un paese esporta di più rispetto all'importazione o viceversa quindi se un paese esporta di più vuol dire che ha una bilancia commerciale in attivo se invece importa di più ha una bilancia commerciale in passivo questo tutti gli economisti sanno che è fondamentale che ci sia un certo equilibrio nella bilancia commerciale perché significa che il paese può reggersi in piedi se l'economia è in pesante attivo se la bilancia commerciale è in pesante attivo non è bene perché significa che i propri cittadini vivono al di sotto del proprio tenore di vita possibile e quindi è un'ingiustizia sociale se invece è in pesante attivo significa che il sistema prima o poi salterà e probabilmente sarà per mancanza di lavoro e per debiti detto questo qualcuno di noi potrebbe pensare che l'Italia è una di quelle messe peggio in questo momento in realtà no Francia e Spagna sono messe decisamente peggio di noi e voglio dirlo con tutta sincerità non è un problema di debito pubblico perché dal punto di vista economico no nessuno perché le principali economie europee colpite dalla crisi avevano un debito pubblico basso la Spagna la Grecia la Francia l'Irlanda avevano debiti pubblici estremamente bassi ma qual era il loro problema il loro problema è che avevano debiti privati estremamente elevati che poi sono ricaduti nel pubblico proprio per i sistemi assistenzialisti che le economie occidentali mettono in campo dunque cos'è che determina un debito privato pubblico in questo momento è una moneta troppo forte è una moneta che è stata germanizzata che sostanzialmente è il marco e che in questo momento penalizza le altre grandi economie europee possiamo stare qui a discutere di quanto se il 10-15% come probabilmente è il caso dell'Italia se il 30% nel caso della Grecia se il 20% nel caso della Spagna ma il dato interessante è che tutti gli indicatori economici ci dicono che se continuiamo nella strada dell'euro per noi non c'è speranza quantomeno nel breve periodo perché la crisi è un meccanismo che si autovita su se stesso perché la mancanza di soldi porta inevitabilmente a togliere lavoro al proprio vicino e se il proprio vicino non ha più lavoro non dà da vivere all'altro proprio vicino quindi ci possono anche venire a dire che la benzina può esplodere che non è vero perché costava meno con la lira oppure un sacco di altre questioni che sono puntualmente smentite dal punto di vista economico tant'è che quattro prami Nobel dell'economia ci dicono che l'euro non va bene per l'Italia li voglio citare sono Paul Krugman Milton Friedman Amartini Assen e Joseph Stiglitz quindi non quattro estremisti populisti ignoranti di materia che anzi come posso essere io magari o qualcun altro ma ci dicono che per l'Italia e non solo per altri grandi paesi europei l'euro non va bene questo perché anche per ammissione del capo economico del fondo monetario internazionale quindi il massimo esponente economico mondiale Olivier Blanchard l'euro non è stata una soluzione economica perché le auree omogenee dal punto di vista economico non vanno bene per l'Europa ma è stata una scelta politica probabilmente una scelta sbagliata ma una scelta politica non economica e oggi ne stiamo pagando i danni quindi che non vengano a dirmi che l'euro è una soluzione che funziona e come ci siamo entrati ci possiamo anche uscire un'uscita concordata con gli altri grandi paesi europei che sicuramente conti alla mano dovranno necessariamente fare delle scelte perché la Grecia è stata salvata tra virgolette salvata se si può dire salvata perché probabilmente è stata salvata la Grecia ma non i greci con ingenti risorse pubbliche per abbassare il debito dall'alto ma perché? perché la Grecia rappresenta il 3% del debito pubblico europeo se fosse successo all'Italia una crisi del genere come quella greca pesiamo il 18% del debito pubblico europeo sarebbe saltato l'intero sistema quindi è chiaro che pure si può fare il prelievo dei conti forzoso come a Cipro un'altra misura assolutamente folle dal punto di vista economico perché anche quella era una piccola capitale dei capitali soprattutto esteri prevalentemente russi quindi soldi neanche dei cittadini greci allora in sostanza che cosa si può fare l'Italia è un paese che non ha grandi risorse di materie prime quindi è inevitabile che debba andare a prendere le risorse in altro modo di quali risorse dispone l'Italia? di una grande produzione manifatturiera industriale eccetera che quindi può trasformare le materie prime ed esportarle ma non solo abbiamo anche una grande cultura e capacità artistica e un fiorente turismo che però tutti questi tipi di attività se si corrispondono ad una moneta troppo forte vengono improvvisamente ridotte della propria capacità e quindi incentivano il debito e l'importazione di prodotti da fuori ecco che a questo punto si capisce bene che una moneta troppo forte distrugge e impoverisce l'Italia l'euro cosa può fare per ribilanciare la bilanza commerciale? può fare una cosa sola contrarre i salari perché questo è l'unico sistema che una moneta unica consente questo significa impoverizzare impoverire scusate le persone è inevitabile succede in Grecia dove abbiamo visto che hanno tagliato tutti i salari e succederà in Italia succederà in Spagna è già successo in Irlanda succederà in tanti altri posti questo perché? perché la Germania ha un surplus commerciale elevatissimo tale che permette di non far depreciare la moneta ma anzi mantenerla elevata possiamo anche dire che i tedeschi sono stati più bravi di noi nel fare le riforme forse è vero e tutti gli altri paesi europei a parte i satelliti della Germania non lo sono stati ma oggi non possiamo vedere al passato dobbiamo vedere al futuro che cosa si può fare attualmente con questo sistema che viene proposto nulla se non uscire dall'euro per riequilibrare la situazione tant'è che una moneta comune si regge in due modi il primo è appunto con cioè c'è un'altra possibile strada voglio dire per sistemare questo squilibrio enorme tra le economie all'interno di una moneta comune che è quella di fare trasferimenti come avviene negli Stati Uniti come avveniva nell'Italia della lira e come avviene in tante altre nazioni del mondo ovvero che la parte più produttiva mandi degli aiuti di bilancio ai paesi più in difficoltà gli Stati Uniti mandano qualcosa come il 30% del bilancio federale negli Stati meno produttivi però la Germania ha già detto che questo per lei è incostituzionale perciò in ogni caso non potrà essere fatto che i partiti si sono già qualizzati per dire che non daranno un centesimo ai parassiti dell'Europa noi la Spagna la Francia la Grecia il Portogallo l'Irlanda perciò l'economia così è inevitabile che salti allora a questo punto siamo l'unica macroarea di paesi in recessione e c'è un motivo c'è un motivo e bisogna dire la verità bisogna avere il coraggio di dire la verità che la crisi non sta finendo ma è appena iniziata perché è un circolo e l'economia si sta deprimendo il governo sta aumentando le tasse sta aumentando la velocità con cui la crisi aumenta quindi l'unica cosa seria che si può dire è quella di uscire dall'Euro a meno che non si possa tentare un ultimo estrema un ultimo estrema ratio per salvare la baracca tagliare le tasse drasticamente allora forse forse in quel caso verremo commissariati dalla BCE dalla Troica da tutti quegli organismi che nessuno di noi ha votato che probabilmente nessuno di noi ha voluto ma forse in qualche modo potremmo anche tentare di cavarcela non è detto uscendo dall'Euro sicuramente possiamo cavarcela quindi ho fatto questa premessa molto lunga per dire che l'emendamento che propongo che è firmato anche dai miei due colleghi nel gruppo è per chiedere colleghe nel gruppo è per chiedere l'uscita dalla moneta unica europea l'Euro è per chiedere una moneta sovrana grazie silenzio grazie consigliere grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti consigliere freschi prego grazie presidente mi è un po' difficile intervenire questa sera dopo questo trattato di economia che ho sentito e comunque cercherò di ritornare un po' più a terra perché non so se è nostro compito deliberare questa sera l'uscita dell'Euro mi pare un po' vabbè comunque giustamente ognuno presenta ciò che ritiene più più opportuno ecco io penso signor sindaco che il documento sul quale stiamo ragionando questa sera sia un documento di estrema importanza per la nostra città per la nostra città per i lavoratori per le politiche economiche industriali del nostro territorio io capisco che qualcuno può dire che il comune l'ente locale non ha gli strumenti il potere per poter intervenire in campo economico però vorrei rovesciare la domanda nel senso di dire se il comune non facesse niente cosa direbbero i cittadini allora penso che se i cittadini ancora credono qualcosa nell'ambito della politica o di chi amministra forse lo credono e ci credono al livello più diretto più basso più immediato più palpabile che è quello del comune il sindaco penso abbia fatto uno sforzo di non poco conto sia nel redigere questo documento sia nell'accogliere trasformare e riportare quanto detto dei vari gruppi consigliari dei vari consiglieri nei vari incontri che abbiamo fatto e anche raccogliendo quelle che sono state le istanze le proposte le idee arrivate tramite il consiglio comunale aperto ecco vedete di fronte ad un problema come quello che ci troviamo davanti ed è un problema che è locale ma le cui ricadute le cui origini le cui cause e qui posso convenire con alcuni passaggi fatti precedentemente hanno origini lontane e origini che vanno al di fuori dai perimetri del nostro paese però la domanda che mi pongo è anche quella io dal 2007 diciamo vabbè 2008 l'estate del 2008 esplosa la crisi ma i segnali erano nel 2007 ho sentito vari economisti intervenire e vi dico sinceramente che non ne ho trovato uno che sia riuscito a dare una ricetta per la soluzione del problema per cui prendo tutte le varie teorie che vengono declinate in questo periodo con molta attenzione però anche con molta diffidenza perché penso che la crisi sia una crisi globale nella quale per la prima volta il pianeta si trova ad affrontare una crisi di tale portata ci sono state altre nel passato ma avevano dimensioni e luoghi particolarmente localizzati e precisi le ricadute che ora ci sono in paesi diametralmente opposti dal punto di vista dell'emisfero rispetto a noi sono ricadute sono azioni che hanno ricadute globali che hanno ricadute che non erano pensabili fino a qualche qualche decennio fa non di più vedete prima il consigliere Franchin ha fatto riferimento all'ente locale dicendo che può intervenire dal punto di vista della legalità e io mi chiedo ma quello che sta accadendo a livello internazionale non è il risultato di una non legalità nel momento in cui non si giocano partite con giocatori messi in campo nelle stesse condizioni e con un arbitro imparziale ma si giocano partite in cui qualcuno rispetta le regole e qualcuno non le rispetta e nel momento in cui non le rispetta traducendolo in economia i prezzi di mercato cambiano i prodotti acquistano costi e dimensioni diverse e diventano strumenti sui quali è impossibile intervenire vedete il fatto che è accaduto a Prato l'altro giorno è un fatto che ci deve far pensare perché non è accaduto in Cina è accaduto in Italia cosa significa questo significa che mano a mano che andremo avanti con questo processo ci possono essere persone maggiormente esposte espulse dai circuiti lavorativi e possono trovare ricollocazione magari illegalmente all'interno di altri circuiti e vanno produrre prodotti che avranno sul mercato un costo inferiore rispetto ad altri e nel contempo le persone impoverite da un'economia devastante andranno ad acquistare i prodotti a basso costo per cui la catena e il circuito si alimenterà da solo questa è la situazione di fronte alla quale noi ci troviamo pertanto quando si parla di legalità caro collega Franchini hai fatto bene a sottolineare il fatto che il comune nel suo ambito nel suo territorio per le sue conoscenze per i suoi rapporti può intervenire e può dare in qualche modo risalto a certe situazioni che si stanno verificando perché diritti legalità e regole condivise devono essere la base di una società ma non della nostra società non del nostro paese ma sono regole internazionali i consensi internazionali servono a questo a far emergere quelle che sono le negatività e qui purtroppo la cosa a cui dobbiamo tutti richiamarci è che è venuto a mancare il ruolo della politica della politica intesa con la P maiuscola non della politica dei partiti della politica delle persone ma la politica delle scelte la politica di ragionamenti la politica in cui le persone si mettono di fronte ai problemi e cercano delle soluzioni condivise che servono per il bene della comunità e non di una parte della comunità e non di una parte di qualcuno ma per il bene di tutti allora vedete nel momento in cui noi andiamo ad approvare un documento che ha tutta una serie di premesse che richiamano questi aspetti che richiamano determinati valori che richiamano un modo di fare economia e di conseguenza ricadute sulla comunità che sono quelle della convivenza civile e rispettosa e dignitosa facciamo un passo politico per cui non approviamo un documento che è così un semplice riepilogo sintesi di buone intenzioni questo secondo me non è un documento che approviamo questa sera e si ferma lì è un documento consentitemi il termine un po' banale ma è un documento in itinere che dovrà essere continuamente implementato da prese di posizione dovrà essere continuamente implementato da idee da tavoli che si mettono insieme le istituzioni insieme ai cittadini alle forze sindacali sociali perché il problema del lavoro è un problema che non risolviamo un giorno per sempre ma è un problema che dovremo affrontare tutti i giorni costantemente se non abbiamo questa sensibilità se non abbiamo questa attenzione siamo veramente lontani anni luce dai problemi delle persone e della gente riguardo a questo ci sono una serie di aspetti che vanno tenuti in debita considerazione il comune può farli il comune può affiancare le imprese il comune può affiancare i cittadini può affiancare le nuove generazioni che vogliono affacciarsi in qualche modo al mondo del lavoro anche rischiando perché il rischio deve essere anche accompagnato deve essere accompagnato da chi ti prende in qualche modo per mano e ti dice queste sono le strade da percorrere e come istituzione ti sono a fianco perché ti do l'indirizzo giusto per poter fare qualcosa non ti lascio da solo questo è quello che stanno facendo anche altre realtà non distanti da noi guardate i siti di qualche altra regione magari anche qualche provincia autonoma e vedrete che ci sono alcuni passaggi di questo tipo in cui l'ente l'ente pubblico si mette a fianco del cittadino e dice se vuoi investire ci possono essere questo tipo di percorsi da fare ci sono questi luoghi questi indirizzi non andare a perderti nelle pratiche burocratiche ma ti do in qualche modo la strada da percorrere ti affianco anche al credito in modo tale che tu possi in qualche modo avere anche una garanzia da parte di qualcuno che può in qualche modo aiutarti e nel momento in cui ti sarai avviato potrai anche restituire quello che hai avuto in aiuto questo passa attraverso un circuito però virtuoso che deve essere innanzitutto quello della condivisione da parte di coloro i quali sono chiamati ad operare delle scelte e noi per il nostro piccolo qualche scelta la possiamo fare per cui il fatto di uscire con un documento condiviso penso sia il primo passo e poi ci possono essere delle scelte che insieme si fanno vedete qualcuno ha citato questa sera che noi anche in città abbiamo delle eccellenze dal punto di vista formativo e scolastico ha citato alcuni istituti uno specifico il Kennedy i geometri ma ad esempio nel momento in cui facciamo formazione possiamo farne una formazione zoppa? possiamo fare una formazione che arriva fino a un certo punto e qui mi riferisco al Kennedy e poi magari a livello universitario avevamo ingegneria e non ce l'abbiamo più che senso ha nel momento in cui si è deciso di non avere più ingegneria a Pordenone forse si è fatto una scelta per quanto riguarda il settore manifatturiero in questa provincia sono domande che mi pongo ma che non mi pongo solo io forse qualcun altro dovrebbe porsele perché se la scelta era quella di dire il manifatturiero è un qualcosa che va in qualche modo a ridimensionarsi o ad esaurire forse la scelta è stata giusta ma se invece la nostra intenzione era quella di dire il manifatturiero continua forse questa scelta è stata un po' azzardata forse bisognava pensarci un po' di più per cui vedete questi sono aspetti che hanno in sé una serie di requisiti una serie di ragionamenti che vanno che vanno fatti che vanno fatti insieme non può essere qualcuno che decide per altri ma deve essere qualcuno che decide insieme ad altri e deve capire questo territorio cosa deve fare perché se il manifatturiero sarà un fenomeno che si andrà a ridimensionare e i segnali che abbiamo davanti certamente non sono confortanti forse bisogna avere anche la soluzione di riserva nel senso che se questo sarà un settore che in qualche modo verrà ridimensionato dovremmo produrre delle politiche del lavoro che vanno in altri settori qualcuno ha citato prima magari anche ironizzando il turismo l'agricoltura o altri 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 aspetti io non ironizzerei troppo direi che bisogna mettere in campo in cantiere qualcosa di nuovo che ci permetta anche di essere alternativi a un qualcosa che potrebbe che potrebbe scomparire ma anche questa è una scelta della politica è una scelta di tavoli condivisi è una scelta sì di chi governa ma non può essere estraneo chi è dall'altra parte e per quanto riguarda la nostra città io penso che il passaggio che ha fatto il sindaco e poi è stato anche ripreso sulla cultura che questo territorio ha messo in campo in questi anni sul fronte industriale è una cultura che non va assolutamente persa è una cultura che va rilanciata e che ha un substrato e che ha una base che è estremamente forte e che è estremamente importante che non dobbiamo assolutamente perdere ecco io non vorrei aggiungere altro perché non vorrei neanche che che l'argomento non venisse venisse in qualche modo svilito penso che il ruolo dell'amministrazione comunale e nel comune capoluogo in questo caso sia veramente quello di una forte capacità di coordinamento del saper tenere un tavolo unito costantemente unito di non far cadere la tensione di essere il promotore di iniziative che in qualche modo risveglino questo territorio e che questo territorio potrà avere quello che ha avuto soltanto se sarà in grado di determinare il futuro non può abbandonarsi al fatto che qualcuno dall'altro deve aiutare ma deve essere una piena consapevolezza che ciò che faremo ciò che andremo a fare è frutto di una storia che abbiamo ereditato di una passione che abbiamo ereditato ma anche di una speranza che dobbiamo impegnare per il futuro se non sarà questo sarà un territorio destinato a diventare area depressa come l'ho già stato in passato dove i giovani sono stati allora costretti ad emigrare portando forza lavoro e braccia ed ora magari sono costretti ad un'emigrazione di tipo intellettuale questo non deve avvenire dobbiamo creare le basi perché questo non avvenga perché questa è la nostra forza la nostra capacità partire da una cultura che abbiamo ereditato per fare in modo che un'altra cultura forse nuova forse diversa da quella che stiamo vivendo si stia si stia affermando per un futuro che dovrà essere certamente più più difficile per certi aspetti ma con la speranza che deve contraddistinguerci dovrà essere anche più forte e positivo ecco per cui sindaco io la ringrazio di quello che lei ha presentato questa sera perché è un documento che fa sintesi di tutta una serie di problematiche di aspetti che abbiamo in qualche modo sviscerato nei vari incontri e che però a mio avviso è un documento che non si chiude con la deliberazione che è scritta ma è un documento che deve gettare le premesse per essere sempre un discorso un progetto in itinere e al quale viene data al comune capoluogo se non altro la capacità e la forza di essere coordinatore e stimolo per quanto riguarda le politiche di questo territorio grazie consigliere consigliere Persone prego grazie presidente la proposta numero 42 che viene proposta questa sera in consiglio potrebbe anche essere votata tanto è la solita mucchiata di parole vuote retoriche che si spargono sulle ceneri della crisi che divora posti di lavoro e massacra i lavoratori pordenonesi ormai da qualche anno potrebbe dico se non fosse che nel suo finto solidarismo dimostra l'assoluta incapacità di questa amministrazione comunale e della sua maggioranza anche solo di comprendere questa crisi non dico di risolverla la crisi viene da lontano e non riguarda tutti basta vedere che in Germania la disoccupazione è quasi inesistente dipende dalle scelte storiche della classe politica italiana che non ha mai voluto risolvere i veri problemi di questo paese l'assistenzialismo indiscriminato al sud e il suo mancato sviluppo la crescita senza freni della mole di leggi regolamenti e norme a tutti i livelli confuse e contraddittorie che ha alimentato la confusione e il peso della burocrazia i troppi e deresponsabilizzati dipendenti pubblici e politici la mancanza del rispetto per le nostre tradizioni di onestà lavoro e sacrificio e soprattutto per l'introduzione ad un tasso di cambio da strozzini fatto dal vostro romano Prodi finché non fate quindi un'analisi vera e reale di questa crisi continuerete a produrre foglietti come quello di questa sera di oggi senza senso e senza utilità tuttavia voterò questa proposta per spirito di servizio sì veramente tanto come ha detto il collega dal MAS non costa nulla per cui voterò questa proposta silenzio esatto in segno di solidarietà verso le persone pordenonesi in difficoltà lavorative grazie grazie cos'è Giannelli prego non c'è dubbio che non c'è dubbio che vorrei sapere chi che potrebbe non votare un documento che poteva essere di 10 righe invece perché insomma è evidente che siamo solidari ma è come il papà insomma il bambino arriva a casa e dice papà sono sono vado a giocare a calcio no io c'ho riferimento del calcio perché è l'unico sport che non sapevo fare bene altri li facevo molto bene ma erano sport più o meno popolari il cricket il polo sapevo giocare molto bene a bridge ma nessuno seguì dice papà nessuno non mi passa la palla io vado in campo ma nessuno mi passa la palla papà gli dice certo non sai giocare non sai giocare bene ma come voi potete pretendere che noi qui in consiglio comunale oltre al al sostegno morale a sta gente e non solo badate agli operai della Zalussi perché ci sono problemi nel terziario professionisti che chiedono gli studi a 60 anni artigiani che non lavorano più commercianti che chiedono i negozi quello invece va bene quello è un disastro ma come potete immaginare che noi non firmiamo il documento ma certo facciamo tutto quello che volete ma non serve a un cazzo niente non serve a niente io un anno fa da questi banchi ho detto ed è scritto no beh bisogna stocanare questi termini se no ci facciamo no non qua per cortesia non utilizzi questi termini non utilizzi questi termini va bene non ho detto niente di speciale grazie ho deciso che siccome ho 10 minuti per fare una dichiarazione di voto ne prenderò 2 per dire le cose e gli altri 8 per dire quello che pensa la gente 15 sono dura allora si bastano 10 perché so che non sono interessante adesso che non ho più la voce una volta invece mi sentivate ma per farmi ascoltare una volta faceva così no? allora la soglia di attenzione aumentava oggi bisogna dire qualche parolaccia allora signor presidente signor sindaco noi abbiamo scritto belle cose ma noi non abbiamo speranza in una nazione dove la burocrazia è a livelli stratosferici in una nazione dove continuano a fare leggi scriteriate in una nazione dove il lavoro costa 4 5 volte che in altre parti del mondo come potete immaginare che uno non vada a farsi fare le cravate in Cina perché noi adesso abbiamo parlato di Prato ma perché di quello che succede in Cina nessuno sa niente lì a morire sono 10.000 di solito però è così perché io che devo andare all'estero a progettare so che se vado in Serbia un bravissimo architetto serbo mi costa 500 euro al mese ma perché dovrei spendere 2.000 per un mediocre architetto o ingegnere italiano magari il laureato sia udine perché le facoltà le dobbiamo avere sotto casa scusa abbiamo abbiamo più facoltà che gli Stati Uniti ti rendi conto l'assurdità dai perché basta con questa storia anche con le nostre perché noi facciamo una facoltà e se enfoca scusa scherziamo lì c'è anche il guado quindi potrebbe essere agraria o geologia abbiamo fatto facoltà come archeologia subacquea questa è una nazione in questa nazione pretendiamo di risolvere i problemi dell'electrolux ma non i problemi degli architetti che stanno a casa ingegneri che chiedono il barbiere sotto il mio studio ha detto io non so più come fare non vi è più nessuno quello invece va bene abbiamo un sistema politico fallimentare a livello governativo sono lì che si incischiano i governi del fare abbiamo gente che non fa niente strappagato e noi pretendiamo di certo che lo firmiamo con il documento signor sindaco come potremmo fare ma continuo a dire l'Italia è come il calciatore all'esempio il papà sa che il bambino non sa giocare bene a calcio e dice è inutile che non ti passeranno mai la palla e loro non ci aiuteranno mai perché siamo in paese allo sbando io quando mi sono riferito alla caduta dell'impero romano adesso non dico tanto anzi non dico ridico alcune cose perché siamo alla televisione perché quella sera sindaco la città non c'era ma sapete perché non c'era ma non perché non credessero in noi non perché non pensino che noi li siamo vicini perché non credo che non succederà niente io da più di un anno su questi in questa stanza ho detto perché ho la fortuna di avere qualche recettore lontano non abbiamo visto niente di quello che succederà sindaco niente io questo l'ho detto più di un anno fa allora è inevitabile quello che ci succede signor guardiamo cerchiamo di prendere e andare all'estero ma chi ha lavoro è tranquillo fino a un certo punto perché l'implosione è vicina guardate guardate cosa sta succedendo sulla sanità guardate sull'ospedale di Pordenone cosa hanno fatto io trondo la sera chiami cosa farà niente perché non ci sono soldi non c'è niente quando andrà in pensione una grande categoria di professionisti della sanità che è la mia categoria voglio vedere io come andrà a finire altro che servizi sarà un disastro perché e c'è un buco generazionale allora davanti a uno stato che non riesce nemmeno a vendere le casanne che non usa più ma non con le strategie è come un genitore che ha una casa madre dove non c'è mai che gli dice continui a vendere agli amici no ora che sei pieno di debiti vendi la casa al mare non ci vai mai se non la casa montagna che invece vai tutti tutti con le casanne no perché provate voi andare solo a mettere il naso sulla stemodializzazione di un relitto stradale 30 metri quadri in Germania si fai un quarto d'ora e non dal notaio dal segretario comunale loro non hanno i notai se ne abbiamo solo noi siamo ricchi allora davanti a questo continuo a dire è inutile che pensiamo di salvare l'elettrolox l'elettrolox è spacciata lo sappiamo tutti l'unica cosa che possiamo fare ai bambini è ti vedrai che la prossima partita ti faranno giocare no perché il mister sa il mister vuol dire gli Stati Uniti d'America perché oggi siamo convinti che gli Stati emergenti siano il Brasile la Cina la Corea perché hanno due PIL di 9 punti no degli aumenti esponenziali ma andatevi a vedere il PIL del Brasile della Cina e il PIL degli Stati Uniti oggi chi comanda sono gli Stati Uniti e gli Stati Uniti per noi sì la ricchezza la ricchezza sono gli Stati Uniti gli Stati Uniti non ci vogliono come paese manufatturiero non interessa più l'Italia della 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 manufattura quello che interessa e quello che possiamo fare e qualcuno l'ha già detto è strepetoso turismo cultura inarrivabile per qualsiasi parte del mondo ok eccellenze la Ferrari la moda il design le architetture basta allora in tutto questo l'elettro non c'entra è evidente che in Svezia il sindaco poi lei lo sa perché è stato un dirigente cosa pensano in Svezia continuano a dire perché dobbiamo spendere qua quando l'energia è il 30% in più ma se io domani mattina vengo da lei il sindaco e le dico ho fatto un'analisi buttiamo via facciamo 100.000 tonnellate di cipato di mais cioè noi quando abbiamo preso la pannocchia e l'abbiamo il resto viene bruciato al vento e lei dice se nel sindaco faccio una centrale biomassa dobbiamo col mai il cipato e facciamo corrente elettrica o teleriscaldamento lei mi dice bella l'idea dove la facciamo? dobbiamo fare una variante a piano regolatore no sì quanto ci vuole per fare una variante a piano regolatore in due anni? ma come potete immaginare che in Svezia o negli Stati Uniti dove ancora c'è il centro del potere credono in noi non abbiamo nessuna possibilità io vi sfido vi sfido a trovare nella burocrazia nei governi centrali che continuano a fare delle leggi illegibili scusate il gioco di parole io vi sfido a prendere un testo fatto a Roma di una legge che non abbia 27.000 combinati di sport rimandi continui quindi perché la città era assente 15 giorni fa? perché non ci crede è sfiduciata ma non perché i cittadini non c'erano cittadini perché se toggetti non c'era nessuno quindi lei il sindaco ha lavorato io mi rendo conto mi ha detto bene Franco Dalmas lui è presente e credo che lui anche come se c'è col cuore perché è una persona per bene ma anche noi ma non possiamo incidere nulla 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 e ora che senso ha la nostra presenza? è quello della denuncia continuiamo e se no io continuo a farlo e lo scrivo anche in quelle piccole marginali situazioni dobbiamo dobbiamo fare un grido che dice non ne veremo fuori finché non si cambia il vertice non possiamo non siamo più al tempo della rivoluzione francese non esistono le rivoluzioni dal basso nel vecchio continente quella stupidagina dei forconi secondo voi ha avuto qualche niente perché non potremmo mai mettere io non posso mettere il mio computer di attraverso come un tir su una strada e nessuno andrà mai in piazza a prendere il deputato che è totalmente assente al Parlamento no bisogna fare il contrario e loro i sindaci dell'ondario di regione e dire tirate voi a questi celtroni dei politici che sono a Roma la regione va a Roma e invece dovete andare a casa perché la gente non crede più in voi non c'è altro modo allora io ho preso questo tempo che avevo a disposizione siccome era detto anche prima l'ottimo del MAS non c'è motivo di non essere coesi in questa operazione forse un sindaco avrebbe fatto un documento più coraggio ovviamente quattro righe vergognatele perché tutte le cose che lei ha scritto sono stupende ma non servono a niente quindi rinnovo questo monito arrabbiamoci arrabbiamoci siamo tutti assieme guardate che siamo tutti uguali non c'è né colore non esiste neanche più l'ideologia siamo tutti uguali da una parte non fallo niente per noi e guardi che non c'è solo l'operaio ripeto ci sono tutte le categorie di lavoro tranne i super burocrati i super dirigenti quelli che non quelli che non avranno mai crisi ma quelli sono il sistema ecco dichiarazione di voto così la facciamo per noi approveremo il documento convinti convinti come siamo che non servirà a nulla grazie consigliere consigliere bevi l'acqua prego grazie presidente consiglio colleghi sindaco e non posso che condividere invece quanto elaborato nel documento oggi messo in discussione condivido oltresì quasi tutto non completamente ma quasi tutto quello che è stato detto ed argomentato dai colleghi che mi hanno preceduto ed in particolare quanto detto da franchine in merito alla legalità del lavoro vorrei però aggiungere un altro e complementare aspetto della questione lavoro quello di genere dico questo non per spirito di polemica né per incitare la guerra tra i poveri ma il mio intervento vuole essere un ulteriore spunto di riflessione la questione del lavoro è poliedrica a diverse forme diverse facce lo ha detto bene Giannelli sono gli operai sono i metalmeccanici i colletti bianchi i pendolari le badanti i precari il grandissimo popolo delle partite IVA è il lavoro sommerso è il lavoro fuori dalla legalità il lavoro irregolare e dentro la questione del lavoro c'è anche il lavoro delle donne nel nostro paese il problema del basso tasso di occupazione femminile costituisce il cuore dell'emergenza occupazionale e allo stesso tempo un elemento centrale della soluzione per uscire dalla crisi la valorizzazione del ruolo economico delle donne pare poter essere una sorta di lievito per la ricetta della crescita equa non lo dico io posso creare forse la rita ma sbagliereste perché così affermano senza remore e pudore economisti giuslavoristi anche di questa regione e non solo ma anche sociologi come la Saraceno così consapevole la stessa Banca d'Italia nel 2012 nella sua relazione annuale la stessa Banca d'Italia infatti per la prima volta dedica un intero capitolo al ruolo delle donne nell'economia italiana come fattore di incremento complessivo del PIL il contesto legislativo vede la riforma Fornero il codice delle pari opportunità il testo unico sulla maternità mi fermo qui e basta esse però costituiscono leggi manifesto se non si traducono nell'agire quotidiano come obiettivo di trasformare la società in senso paritario un bagliore deluce deriva dalla constatazione che l'occupazione femminile cresce in ragione del livello di scolarizzazione quindi di istruzione e formazione professionale e allora concludo che un'ulteriore strategia ed azione se così si può dire o intendere sia anche quella di perseguire e attuare le politiche di genere anche attraverso e cito quindi il documento signor sindaco attraverso il sostegno alla formazione continua anche formazione alta formazione ciò per accompagnare i fenomeni di riconversione oppure attraverso il sostegno a tutti i processi e le azioni idonee ad aumentare la competitività delle imprese o ancora forse quello più efficace attraverso l'input alla ripresa di una serie di attraverso l'input attraverso l'input alla ripresa scusatemi sono un po' ma perché è quello che mi interessa maggiormente attraverso l'input alla ripresa di serie relazioni industriali tra soggetti interlocutori seriamente e profondamente rappresentativi del mondo del lavoro quindi ci vuole una svolta grazie grazie consiglio bevi l'acqua consiglio di tavella prego grazie presidente provo a leggere gli appunti che mi sono preso anche se ciò che ha detto prima Giannelli sembra quasi avermi per certe parole tolto un po' la parola e al di là di dire in premessa che è normale logico appoggiare questo questa delibera che ci accingiamo a firmare ma come diceva l'amico Frank io mi domando tutto questo a cosa serve perché non dovete non dobbiamo prendere per i fondelli queste persone che hanno perso o stanno per perdere il posto di lavoro ho assistito abbiamo tutti assistito ad un consiglio comunale aperto a delle scene che mi hanno fatto pensare dove stiamo andando e soprattutto che cosa stiamo raccontando a migliaia di famiglie e ciò che ci accingiamo a fare per me è solo e soltanto fumo negli occhi e quindi illusioni che creiamo a delle persone cosa pensiamo di fare noi con con questa azione se appunto vado a pensare vado a guardare quando c'è stato il consiglio comunale aperto e dove ho capito successivamente fra l'altro che il ministro Zannonato sceglie Susegan anziché Pordenone mi pare che Lettelux abbia sede qua da noi ma al di là di questa enorme gaffe di questa carenza di stile di chi di chi governa ho sentito parlare di irizzare Electrolux di continuare la CIG di cassa integrazione intendo dire mantenere posti di lavoro ho sentito parlare di attività di produzione fino ad arrivare a 93 lavatrici all'ora perfetto ma signori bisogna parlare a tutte queste persone che queste lavatrici vanno vendute e in quattro ore non ho sentito parlare da parte di nessuno di come e dove vendere queste lavatrici è inutile farle se poi dopo andiamo a riempire i magazzini per andare su sugli altri problemi legati a chi poi qui rappresenta sul nostro territorio partiti nazionali fino a quando uno Stato come il nostro spende 800 miliardi all'anno e non può ridurre i costi non può trovare le risorse finanziarie per ridurre i costi dell'energia e ridurre il costo del lavoro che ha delle cifre esorbitanti coinvolgo voi voi che siete qui dei partiti nazionali perché qui rappresentate coloro che per vent'anni hanno lavorato e stanno lavorando chi prima chi poi hanno governato e governano l'Italia con oltre mille parlamentari sono sempre mille persone per i quali in vent'anni non è mai stata fatta un'azione che portasse a una riduzione drastica mi viene in mente quando parlo dei parlamentari mi viene in mente il governo degli Stati Uniti d'America dove sono 290 milioni di abitanti e hanno mi pare 500-600 parlamentari meno persone abbiamo meno parlamentari meno parlano e più fanno più sono più vogliono parlare meno si produce quindi nessuno ha mai pensato ad agire in questo senso una riduzione consistente e non una riduzione banale e con questo noi continuiamo ad avere uno Stato che ha 800 miliardi di costi e voi qui di centro-destra di centro-sinistra quindi mi riferisco a chi a voi del centro-destra e a voi del centro-sinistra no avete tentato di fare chi da una parte chi dall'altra ma siccome io guardo sempre e tiro la riga io vedo che in tutti questi anni in vent'anni non è mai stato ridotto so che è stato fatto so che è stato fatto una pseudo-legge poi avete rimandato ai cittadini un referendum alla fine tirando la riga ma secondo te sono da difendere queste persone secondo me no secondo me il cittadino ha bisogno di altro ma non voglio entrare in polemica con l'amico Franco ti ringrazio per il sostegno perciò sottoscrivere questa delibera mi sembra un po' così prendere un po' per i fondelli queste persone perché la gente le persone che troviamo che incrociamo per strada non ne possono più di questo tipo di comportamento noi abbiamo a me capita quotidianamente di avere 60, 70, 80 persone che entrano in ufficio per esigenze che hanno e non trovo una persona che oggi abbia fiducia e di conseguenza anche noi in questo in questo consiglio comunale nel nostro piccolo subiamo le stesse conseguenze non hanno fiducia assolutamente di noi pertanto come diceva l'amico Giannelli va bene firmiamo facciamo ma non so dove possa portarci questo 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 provvedimento che andiamo a firmare ripeto andare a raccontare le fiabe di cappuccetto rosso raccontare l'illusione delle persone non è la cosa che mi che mi stimola e che mi consente di guardare con un certo sorriso le persone che incrocio quotidianamente l'illusione non può essere uno stabilimento che produce prodotti che poi che poi non vende parliamo di tante persone parliamo di mettere in cassa integrazione ma poi queste persone in cassa integrazione cosa fanno stanno ferme non fanno nulla magari forse potrebbe qualcuno pensare di fare lavorare negli enti pubblici dove almeno magari un po' di burocrazia potrebbe diminuire chiaramente non sono provvedimenti che possiamo fare noi noi possiamo soltanto suggerire nell'interesse chiaramente di dare un po' di futuro a queste persone ma non credo che oggi limitandoci a rinnovare quello che è già in atto senza parlare di programmi consistenti ma soprattutto parlare di marketing e parlare di vendita dei prodotti è molto difficile poter portare a casa un risultato a me viene in mente quello che è accaduto a mio nonno mio nonno era del 91 1891 e ha fatto la prima guerra mondiale e quindi non vuole essere questo esempio un qualcosa contro i lavoratori non vorrei che venisse così interpretato ma un esempio che può significare e può essere di stimolo per qualcuno nel 1929 nel 1930 quando mi pare che ci fosse una crisi simile a quella che abbiamo oggi se non forse peggiore era un falegname mio papà aveva due anni quando mio nonno scelse di emigrare e di andare in Argentina e rimase fino agli anni 50 fino alla fine della seconda guerra mondiale dove mio zio il frattore di mio padre lo ha raggiunto in Argentina sempre per effetto della crisi che era crescente da laggiù è riuscito a mantenere la famiglia è riuscito a mantenere tutti e tre i figli che mio nonno aveva questo non significa che la gente deve andare via da Pordenone però forse magari un po' tutti chi da una parte chi dall'altra deve pensare non soltanto a credere che ci siano altre persone che lavorino per loro ma che tutti tutti trasversalmente devono adoperarsi rimboccandosi le maniche per cercare delle nuove alternative e delle nuove variabili per il futuro grazie grazie consigliere consigliere Ribetti prego presente presente ed intervengo intervengo per per cercare di lasciare il nostro contributo noi come gruppo il documento l'abbiamo l'abbiamo appoggiato ci abbiamo lavorato con i colleghi capigruppo ce lo siamo scambiati e l'abbiamo condiviso lo condividiamo in generale noi vede sindaco la sera del consiglio comunale aperto fino all'ultimo io e il collega Loperfido non sapevamo se avremmo partecipato ma non per qualcosa perché eravamo e siamo e rimaniamo intimamente convinti di quello di cui più di qualcuno qua dentro è convinto dei limitati margini di operatività margini di manovra che abbia un'amministrazione comunale dopodiché forse forse per la cosa che ci ha spinto a essere partecipi noi volevamo manifestare il nostro la nostra vicinanza ai lavoratori tramite un comunicato stampa dicendo non crediamo non crediamo molto in quello che può fare il comune vi siamo vicini oltre la nostra solidarietà non possiamo darvi quello che ci ha spinto e lo dico senza paura è stato proprio il timore di come poteva essere forse strumentalizzato e usato dalla stampa più che altro ah il PDL non partecipa non sono lontani alla fine abbiamo detto partecipiamo e ha partecipato coscientemente e coscientemente abbiamo lavorato a questo documento e siamo convinti di quello che abbiamo fatto della decisione prea siamo convinti che fosse giusto manifestare quella che in primis può che essere una vicinanza perché come ho detto in molti e come ci siamo detti noi stessi da dentro discutendo il documento molti margini di manovra non ce ne sono ci possono essere delle idee delle vaghe idee uno sprono a chi ci governa ai più alti livelli però noi concretamente non possiamo fare molto io di questo resto convinto sentivo qualcuno che si lamentava della genericità del documento dicendo è generico allora forse non lo firmo non lo sottoscrivo ma io qua dentro non vedo a cominciare sottoscritto geni dell'economia e delle scienze economiche non trovo signor sindaco lei non è un genio ma non lo sono io non lo è nessuno tutti quanti abbiamo altre professioni e cerchiamo di mettere la nostra prima di tutto la nostra passione la nostra passione a servizio a servizio della comunità ecco io credo che sia quello il senso da dare al documento non cercare di voler trovare in questo documento delle risposte risposte che questo documento non può dare perché questo documento non può andare ad incidere sul costo del lavoro per una sua riduzione questo documento non può andare ad incidere sulla riduzione del costo dell'energia questo documento non può andare a toccare quelle leve che ci rendono competitivi rispetto ai territori circostanti questo documento e nessun tipo di documento che noi avremmo potuto partorire là dentro o all'interno di questo consiglio può far cambiare idea a chi i soldi li mette in un'azienda che sono i proprietari di quell'azienda di credere o non credere in un progetto poi possiamo discutere mercato maturo mercato non è maturo diceva il collega che mi ha preceduto dobbiamo vendere inutile che andiamo a tenerci a produrre per poi tenere i magazzini pieni ma se il mercato in generale è in crisi quello siamo all'interno di un mercato maturo potremo aprire la discussione e la soluzione non andiamo a trovare noi stasera quindi il significato di questo documento era far capire almeno come l'ho interpretato io alla gente ai nostri concittadini alla gente del nostro territorio che i loro amministratori sono consapevoli e cercano di fare quello che possono sollecitando chi le leve può averne e allora se lo leggiamo in quest'ottica il documento a mio modo di vedere andrebbe accompagnato da qualcos'altro andrebbe accompagnato da dei gesti che sono un minimo concreti io l'ho detto all'inizio stasera quando abbiamo fatto la discussione sul minuto di raccoglimento per Mandela ho cercato di lanciare qualche input qualche input è stato ripreso dal collega Loperfido nel primo intervento secondo me a parte quelli che sono gli spot che noi abbiamo messo di vicinanza spot di vicinanza che abbiamo messo in questo documento la gente credo che l'abbia capito noi dovremmo dare un altro tipo di segnale vede Presidente adesso mi rivolgo Presidente Consiglio lei ci ha tagliato quest'anno le deregistrazioni va bene abbiamo trovato lo streaming va bene il significato l'effetto si raggiunge lo stesso divulghiamo l'attività però io ho già detto altre volte che secondo me una città capoluogo non poteva rinunciare a 7.000 euro perché non aveva 7.000 euro avete tagliato le agende va benissimo l'abbiamo detto dall'anno scorso a due anni non abbiamo bisogno delle agende e ci sono tante altre cose però vede io credo che i segnali che la gente vorrebbe vedere sono anche altri sindaco lei ha è dall'inizio che glielo dico ho fatto un'interrogazione una mozione il collega Loperzio glielo ha ricordato lei ci mette la buona volontà però quello che si percepisce da quest'altra parte da chi siede in questi piccoli banchi minoranze è che lei spesso sia solo lei la buona volontà c'è la messa mi ricordo che lei ci ha fatto votare un documento dove si parlava per le nomine degli enti partecipati di rinnovo e di ricambio generazionale di specie mi ricollego adesso a quello che diceva la collega Bevilacqua adesso sul lavoro come mai non si è parlato del collega e cosa siamo andati a fare siamo rimasti statici sulle stesse posizioni da anni glielo ha detto il collega Loperzio prima lei voleva ridurre i costi altro che 7 mila euro di registrazione in un anno lei voleva ridurre riducendo gli assessori non gliel'hanno fatto fare sindaco allora lei quando le dico che i nostri concittadini la gente che soffre la gente che ha bisogno chiede qualcos'altro io ho presentato per ennesima volta molte volte ho chiesto i costi di Palazzo Badini ho presentato per ennesima volta delle cose quanto ci costa quella cattedrale dell'eserto quanto ci è costato il cubo di cemento al parco Galvani per ricollegarmi a quello diceva la collega Piccin prima ve lo ricordate quante volte lo dico l'ha detto qualcuno prima mi sembra Franchini che il sindaco era preseduto ha trasformato e ne va fiero da città di fabbriche e di caserme e io giungo con le quali si mangiava in città di cultura dove a mio modesto modo di vedere si mangia forse di meno e con questo non dico che la cultura non sia importante io dico che è importante ma io dico che quando ci sono momenti di difficoltà a mio modesto modo di vedere le priorità vadano cambiate allora e allora sentire sentire i dati che arrivano a finanziare regionale che in un momento come questo vengono incrementati di 11 milioni di euro sbaglio sono 11 milioni di euro gli stanziamenti per la cultura a scapito gli stanziamenti che forse sarebbero più concretamente percepibili da parte di chi in questo momento rischia di perdere il lavoro e che io credo che siano questi i passaggi ulteriori che allontanano la gente dalla politica ed è su questo che mi invito a riflettere non sulla genericità di un documento che per forza di cose deve essere così ma non è vero allora io sfido il collega dal MAS perché se non deve essere così perché il gruppo di Forza Italia del collega dal MAS non ha tirato fuori qualcosa di concreto perché non avete la ricetta come gli altri e se voi e se parte di un gruppo che condivideva quelle cose mi può evitare Presidente scusi Presidente credo credo grazie grazie bene Sindaco questo vorrei farvi capire che non voglio fare demagogia dove si fa demagogia andrei dietro il collega Franco dal MAS dicendo cattivoni non l'avete fatto io non faccio demagogia dico però nelle piccole cose in quello che potete fare secondo me dovreste dare voi dovreste dare secondo me dei segnali segnali che non volete dare Sindaco perché restate lei resta bloccato perché voleva ridurre gli assessori non li hanno fatti ridurre adesso cerca di agire sui dirigenti farà quello che farà Palazzo Badini continuiamo a spendere soldi adesso forse vi arriverà il cambio di destinazione visto che chi quel palazzo l'ha voluto adesso ve lo può levare il vincolo di destinazione giusto? ecco così vedremo di farci qualcosa e andremo a vedere chi li mette a quei soldi perché bisognerà vedere anche questo bisognerà dirlo ai nostri concittadini ecco quindi sono tanti secondo me le leve dove si può agire dove si che il comune può agire dove si il comune può dire io qua ho margine di manovra non sull'Eletrolux che è di Porcia che non può televagli neanche volendo cosa gli levate su quale leva agite sull'Eletrolux sul comune di Zopola di Orcenico dell'Idea Standard quale leva usate ecco quindi il sindaco la invito e su questo lei potrà contare personalmente ma credo anche di parla al nome del collega sull'appoggio di una minoranza lei potrà contare su questo se lei avrà il coraggio di svincolarsi da quelle logiche di partito di cui era fiero di non fare parte e che poi nei fatti la stanno vincolando le stanno legando le mani e allora lei potrà contare sull'appoggio del nostro piccolo ma volenteroso gruppo grazie grazie consigliere consigliere De Bortoli prego sì presidente sindaco io intervengo perché sono stato forse il più critico nell'ultimo rione dei capi gruppo su questo documento però oggi dobbiamo dirci la verità cioè voi dovete farlo e noi dobbiamo votarlo questo documento perché non ci piove sopra c'è l'esame che ha fatto il collega Giannelli la consigliera Piccin sulle destinazioni le ripartizioni regionali anche il collega Ribetti ci stanno tutte io francamente sindaco se lei fosse stato molto più duro invece di scrivere tutto questi tre fogli avrei stato detto mi date la delega domani mattina vado a Roma con le chiavi del comune in tasca e dico a Letta che deve intervenire presso la famiglia Wallenberg di Svezia per dire che questa cosa non si può fare perché la città di Pordenone si è impegnata in modo molto forte quando la Letta Rusco comprò la Zanussi che c'era anche la Thompson mi pare che correva per l'acquisto di questa grande industria e noi noi i governi allora appoggiarono questa famiglia perché si appropriasse di questa grande realtà e importante della di Pordenone perché è solo così che si può fare perché fare un documento dove tutti siamo d'accordo perché come si fa non essere d'accordo su quello che scrivete anche se a dire la verità mancano poi i piccoli provvedimenti che potrebbe fare un'amministrazione comunale adesso io non so se voi avete previsto lo spostamento di bilancio nel settore assistenziale perché se quello che deve succedere succederà penso che l'ufficio assistenza del comune deve avere delle risorse non indifferenti per sostenere l'urto mastodontico diciamo per la nostra comunità pur piccola di quello che dovrà succedere ecco questi sono atti concreti che il sindaco deve mettere subito in piedi togliere magari qualche risorsa come si diceva prima prioritaristicamente nella cultura non perché è meno importante ma perché è meglio sostenere le famiglie far sì che possono mangiare possono vestirsi possono vivere anche senza l'occupazione e poi si può andare a teatro si può guardare qualche bella rappresentativa questo è quello che si chiede a un sindaco e poi deve partire col treno con l'aereo va a Roma e dice signori Pordenone che ha cominciato anni fa a perdere il manifattoriero dell'olcese veneziano e vabbè qui abbiamo avuto la concorrenza strepitosa dei paesi orientali e abbiamo chiuso i cotonefici Olcese supermercato vicino al laghetto perché serviva un altro supermercato e avanti dov'è la peculiarità di Pordenone che una volta è in Galvani in Tomadini in Eccletrolux Eridastanda Locate eravamo un sacco di... adesso non abbiamo più niente siamo arrivati all'ultima forse la più importante che forse sparirà anche questa forse io dico effettivamente un paese allora diciamo chiaro l'Electrolux oggi cosa produce a Pordenone produce un prodotto di alta gamma chiaro su questo mentre in Polonia produce un prodotto di bassa gamma che vende a 300 400 euro che lo trovi all'Ichea mentre l'alta gamma la vende al doppio ma voi pensate che la famiglia italiana oggi deve comprare una lavatrice compra l'alta gamma va all'Ichea e si compra la bassa gamma quel prodotto che viene prodotto dalla Polonia che magari lo produce a basso costo con i contributi europei che noi siamo il terzo paese che contribuisce all'Europa e che l'Europa destina questi paesi sottosviluppati per dare creazione di lavoro dunque non sono beffati perché contribuiamo all'Europa per lo sviluppo di questi paesi aggiunti all'Europa storica ma questi ci fanno concorrenza terribile e sleale su questo perché non pensate mica che oggi la famiglia pordenonese vado a comprare la lavatrice di alta gamma o il televisore di alta gamma qualsiasi prodotto elettronico compra quello che può comprare e se non c'è occupazione non ha risorse per comprare le cose speciali e dunque è una cosa che si ritorce contro e voi pensate che noi possiamo invece esportare un prodotto di alta gamma fatto all'elettorismo di Pordenone o Porcia come si dice nel mondo con un prezzo molto più caro di quello che producono in altre parti allora gli altri sono deficienti perché comprano un EG di alta gamma prodotto a Porcia mentre ignorano magari altre marche altrettanto qualitative che costano come vi ho detto 30% in meno 20% in meno che sono poi quei costi che riducono il prezzo del prodotto dovuto all'energia elettrica che hanno a basso costo e la tassazione sulla dipendenza che hanno a un costo diverso del nostro allora come facciamo a dire a questi nostri colleghi che qui noi salveremo l'Elettrus ma se dobbiamo stare nel mercato globale ma voi pensate veramente che questi qui per fare opera PIA che non sono neanche italiani stiano qua con noi a occupare 1500 maestranze e non essere concorrenti nel mercato mondiale veramente non capisco se voi pensate che questo sia possibile io penso di no perché altrimenti inevitabilmente falliranno ma guardate che anche la FIA ce lo insegna non siamo andati lontano su questo cioè basta vedere come ci stiamo muovendo in campo mondiale ma soprattutto in campo europeo su questo allora dico per carità noi daremo un voto favorevole a quel documento però però bisogna dire una cosa nel 2006 io trovai il mio amico Bolzonello a un dibattito a candidato a sindaco e dissi a Sergio Sergio sai sono un po' preoccupato perché io mi ricordo la Pordenone io ho lavorato tre anni nella Zanussi da 70 a 73 operaio collaboratore e vedevo la filosofia dell'azienda quella volta e ho detto a Sergio guarda sono un po' preoccupato Sergio era il 2006 perché io ricordo la Pordenone con le donne che lasciavano gli uccesi veneziani in bicicletta 10 di sera con le corriere che arrivavano da Non è Veneto da Motodi di Venza da Caule a Iosa le corriere arrivavano a portare il maestrante alla vecchia Zanussi oggi non le vedo più e sono molto preoccupato perché dove andremo a finire e lui mi disse a me piace la Pordenone di oggi la Pordenone che crea consenso che faceva i teatri che faceva i 4-5 musei che cambiava i fiori ogni 15 giorni le aiuole queste cose e invece oggi arriveremo al dunque perché se poi non abbiamo se siamo come si dice qua vocazione manufatturiera e rimaniamo senza le strutture manufatturiere mi dite cosa faremo a fare ai pordenonesi e come potranno vivere le famiglie pordenonesi cosa abbiamo investito fino ad adesso su queste strutture abbiamo fatto a tempo quando si ragionava la grande città degli 80.000 abitanti ancora il sindaco Cardin colpente al partito creò e fece il centro il centro commerciale l'ingrosso il piano di assediamento produttivi le battaglie autostradali perché davano le infrastrutture perché si potessero insediare qua le imprese le aziende i capannoni perché portavano poi quelli di Annone a venire a vivere a Pordenone vicino al lavoro ma da tanti anni questo non si vede più vediamo nascere centri commerciali che non portano questa ricchezza che porta l'impresa la manifattura e questo dobbiamo fare queste considerazioni perché io sono intervenuto nonostante condividevo e condivido l'intervento del mio caporubo Giannelli per lasciare traccia registrata in quello che vi sto dicendo perché noi ci troveremo fra un paio d'anni tre anni e magari nella prossima campagna di questo comune dove non ci sarà più l'Eletrolux a Pordenone non ci sarà più questa realtà e con lei tante altre perché non sta oggi sul mercato globale il discorso che stiamo facendo noi cosa offriamo alla famiglia che ha investito nell'Eletrolux a Pordenone diciamo di lei deve produrre qua l'alta gamma a costi maggiori che la potete produrre dall'altra parte e poi la vende altrove perché Pordenone perché l'Italia non è più in grado di comprare il suo prodotto io non so questi qua se sono così scellerati da dire ah sì non ci preoccupi noi produrremo Pordenone terremo l'impresa a Pordenone anzi potenzieremo le linee investiremo in tecnologia voi fate le scuole istruite i vostri studenti che poi fra 3-4 anni li assumeremo ma ragazzi ma il mondo è velocissimo oggi stare qui un paio d'anni inerti per un'impresa come quella vuol dire fallire vuol dire non avere più neanche l'interesse di stare qui e ci lascerà un sindacalista della CISL nel comune di Porcia che ha fatto un consiglio comunale aperto ha detto testualmente in Polonia ci sono già le strutture addirittura fatte col consulenza dei nostri operanti tecnici dell'Electrolook di Porcia con addirittura i buchi dei bulloni dove verranno installate le linee là dunque cosa stiamo dicendo di questo sindaco lei poi viene dal mondo imprenditoriale viene da questa grande realtà io mi meraviglio che quando è arrivato qui due anni fa non aveva neanche il sentore che questo poteva succedere perché lei è stata nelle altre sfere di questa impresa dunque conosce meglio di me e forse di qualche di un altro le filosofie dell'azienda in cui lei ha lavorato tanto dunque era una cosa che forse dovevamo sentire che stava arrivando una situazione di questo genere no? perché chi ci ha vissuto dentro tanti anni io ci ho fatto solo tre anni nei settanta ma lei ci ha fatto proprio fino all'altro ieri lavorava in questa grande impresa forse in altri settori ma chi è dentro il meccanismo poi capisce anche la filosofia di questa grande famiglia svedese no? dunque doveva preoccuparsi anche un po' prima ma io dico lasciando perdere anche questo io preferivo che lei avesse fatto dieci righe richiedendo una delega per andare a una delegazione di Pordenone dal presidente eletta e dire amico mio guarda che Pordenone è arrivata alla fine o tu provvedi con i tuoi meccanismi con il Parlamento il Governo le commissioni parlamentari l'Europa stessa perché abbiamo rappresentanti nella comunità europea a fare delle proposte serie a questa a questa a questa a questa proprietà di dire che siamo disposti a concedere questi benefit purché rimangano nel Pordenonese a produrre eccetera no? e questo non l'abbiamo fatto e lei pensa che in questo documento noi otterremo qualcosa? io ho fatto l'intervento soltanto per registrare questo signor sindaco ci vedremo fra due anni alla prossima campagna elettorale che cosa sarà successo in questo nostro territorio per quanto riguarda il settore manifatturiero grazie 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 consigliere da Borgoli bene nessun altro iscritto passiamo pertanto prego consigliere Passoni signor sindaco i gentili colleghi ruverò pochissimi minuti all'aula capisco che l'ora è tarda ci sono altre cose anche da provare e francamente sulla questione però sento molto il tema del lavoro forse più di qualcun altro non lo so poi molti interventi compreso il mio capogruppo mi hanno completamente soddisfatto solo per questo però credo che sia giusto anche se mi ha soddisfatto totalmente dire una cosa che forse dovremmo riflettere forse lo sappiamo benissimo tutti il problema che il costo del lavoro incide moltissimo sulle scelte di queste aziende e quindi lo espostano dove conviene purtroppo e purtroppo ci sono i problemi in Europa che non non si è dato un piano del lavoro equilibrato omogeneo che consentisse sì lo sviluppo dei paesi più indietro senza far degradare i paesi diciamo come il nostro e invece questo sta accadendo quindi i problemi sono talmente grossi che obiettivamente il comune di Pordenone può fare poco questo è un dato di fatto però ciò non toglie che il documento che ci ha presentato in condivisione con tutti i gruppi il sindaco è molto apprezzabile non solo nei termini di solidarietà ma anche nelle indicazioni ovviamente poi queste indicazioni dovranno essere in qualche modo riempite di contenuti per la parte che ci compete e certamente di un'azione politica nei riguardi le istituzioni che hanno certamente un potere maggiore di incidere su queste situazioni e mi rivolgo in particolare alla regione e allo Stato uno Stato che per tanti anni purtroppo non si è dato una politica industriale quindi non è colpa del comune di Pordenone se oggi ci troviamo in questa situazione e che dole il cuore perché noi sappiamo benissimo quanto sia importante il lavoro per le persone la dignità che si ricava da un'attività lavorativa di qualsiasi tipo dipendente autonoma eccetera veramente le cronache di questi giorni di questi mesi sono veramente devastanti e drammatiche per cui non consente a nessuno di di dare ricette che poi sappiamo neanche gli economisti sono stati in grado di darci certo noi però non possiamo sottorotare questo grave aspetto perché anche se noi come giusto non solo come comune ridurre il costo della politica dell'amministrazione pubblica cosa che sicuramente faremo perché io sono convinto che questa amministrazione lo farà quindi darà risposta a quei consiglieri che hanno qui fatto anche un po' di demagogia su un tema così delicato rispetto alla TARES e a quant'altro io penso che io penso che invece è importante che questo avvenga anche in tutte le altre istituzioni e sta avvenendo in regione per esempio come sta avvenendo o dovrebbe avvenire io mi auguro che la giornata di ieri possa essere una scorsa anche in questo senso un cambiamento forte dove lo Stato si prende la responsabilità di tagliare gli sprechi i privilegi questa previdenza assurda di uno Stato che paga pensioni insostenibili e quindi tutto questo potrà aiutare a ridurre la tassazione sul lavoro però forse non basterà neanche questo questo è il punto di fondo perché questa crisi veramente quello che ci delinea è proprio questo cioè il fatto che il costo lavoro noi non riusciremo mai ad abbatterlo c'era un bellissimo articolo qualche anno fa di Eugenio Scalfri che parlava di vasi comunicanti e parlava di questo riferito ai diritti e alla tassazione di quei diciamo paesi emergenti che ci fanno grande concorrenza e che ci hanno costretto in questa crisi folle siccome mi pare che non interessi e capisco vista l'ora quello che io sto cercando di dire io penso che non è assolutamente facile e lo sappiamo aggredire questa grave crisi che addirittura qualcuno definisce più grave di quella del 29 dalla quale peraltro siamo usciti e questo lo sanno tutti con interventi diciamo pubblici no? cosa che invece in questo momento non si sta facendo in Europa quindi l'auspicio è che noi come Comune sicuramente faremo la nostra parte di riduzione del costo della politica per abbattere tutta la tassazione per agevolare le attività sul nostro territorio ma è chiaro che questo lavoro sarà del tutto insufficiente se a fianco a questo lavoro del Comune che dovrà dare il suo buon esempio non ci sarà il buon esempio della Regione che mi pare sta andando in questa direzione perché i provvedimenti che ha preso in termini di riduzione dei costi della macchina pubblica dell'indenità dei consiglieri regionali vadano in questa direzione ecco se questo avverrà anche nello Stato anche questo è importante perché questa è una solidarietà del nostro Paese ma certamente non basterà ancora fino a quando l'Europa non prenderà una strada diversa rispetto a quella che ha seguito fino ad oggi di solo austerità questo dobbiamo dircelo perché questa è la verità che noi dobbiamo anche in qualche modo registrare io poi non so se in quel documento ma io credo che rientrano in quei provvedimenti che lei richiama nell'impegno sulla deliberazione sui provvedimenti conseguenti al documento proposto e cioè di un tavolo permanente sulla criticità del nostro territorio insieme alle altre organizzazioni sociali e altre istituzioni del territorio non so se questo era utile per monitorare in qualche modo una cosa che viene monitorata costantemente ma per magari avere come dire una capacità di intervento anche nelle situazioni che si creeranno in futuro in grado di rispondere più velocemente ma forse questa è una mia forse è una mia così come dire auspicio vi ringrazio grazie consigliere bene dichiaro chiuso il primo intervento passiamo al secondo intervento nessuno iscritto pertanto dichiaro chiusa la discussione do la parola all'amministrazione due rapidi commenti durante la lunga discussione un tema ricorrente è stato quello della formazione è stato citato da quasi tutti e formazione nel senso di in qualche modo indirizzare meglio gli sforzi che vengono fatti in questo campo laddove veramente ci serve poi un determinato tipo di formazione forse non era stato chiaro nella nella spiegazione del testo ma quando si alludeva alla formazione certificata si alludeva proprio a questo una delle discussioni che sono state fatte insisto era quando mi ero riferito a quest'azione congiunta anche con la provincia una delle azioni che si sta già ora cercando di affinare e di capire bene capisco che questo possa generare anche delle ironie ma non è così perché delle necessità di figure professionali specifiche nonostante le crisi ci sono quindi si sta cercando di generare una triangolazione più efficace tra le unioni industriali chi a livello di provincia gestisce l'ufficio del lavoro noi stessi come sollecitazioni attraverso le politiche sociali che intercettano un po' la base della disoccupazione ufficiale e non ufficiale per fare in modo che lo so che i numeri sono contro ma almeno una fetta di queste persone possa proprio su stimolo dell'unione industriale e degli imprenditori essere indirizzata a aree di formazione più mirate è uno è stato sottolineato che soprattutto negli scorsi anni anche se di formazione ne era stata fatta tanta però alla fine sembrava non essere mirata alle aree che più interessavano dal punto di vista dell'impiego questo credo che sia uno di quei passaggi che voi avete sottolineato no le risorse che ci sono cerchiamo di indirizzarle di spendere meglio di essere tutti insieme e questo è il problema no di essere concertati orchestrati dal punto di vista di dove poi indirizzare questi sforzi il la secondo commento che volevo fare rispetto alla utilità in utilità del documento e alla fine il fatto che comunque lo andremo a votare io volevo sollecitare e portarvi al discorso di avere fiducia in quello che facciamo perché alla fine la politica la facciamo noi nel nostro piccolo a questo livello sappiamo che è il primo livello di molti altri però siamo i primi che credo dobbiamo dare forza alle nostre azioni avendo fiducia in quello che viene fatto io capisco che il documento possa essere considerato in parte generico secondo me non è affatto generico perché ci aiuta poi a lanciare azioni successive ma il fatto del diciamo del convincimento che qui facciamo un'azione che ci mette tutti insieme a sollecitare le varie parti a dare forza a chi poi andrà a discutere di queste cose secondo me deve essere sottolineato e questa la fiducia è il momento di coesione e unitario per cui alla fine volevamo discutere e far approvare questo documento quindi io capisco perplessità sappiamo bene lo scenario possiamo disquisire delle politiche e dei prodotti sia di marketing che dell'electrolux di Wallenberg però alla fine la valenza del documento era proprio questa di condividere comunque un'azione positiva e di fiducia per poi andare a discutere e battere i pugni come si era detto no? questo lo avevamo condiviso anche nelle varie riunioni di capigruppi che avevamo fatto volevo sottolineare questo passaggio perché mi sembra in questo momento proprio così delicato di scetticismo verso l'azione politica un piccolo segno che alla fine ci crediamo tutti ci crediamo proprio per la compattezza che dobbiamo avere nell'andare avanti grazie grazie signor sindaco passiamo alle dichiarazioni di voto dichiaro aperte le dichiarazioni di voto nessuno iscritto nessuno iscritto dichiaro chiuso le dichiarazioni di voto Pietro Polli prego consiglio Pietro Polli signor sindaco io ho sentito con molto interesse le relazioni dei vari consiglieri senza dubbio condivido la necessità di essere unitario in un momento così tragico per la popolazione e soprattutto per la popolazione operaia dell'Electrolux e dell'Idea Standard senza dubbio io penso che questo sia un documento di prima battuta nel senso che sarà un primo gradino di una lunga scala che sarà molto importante per tutti noi cercare di fare assieme di questo ha bisogno la popolazione senza dubbio non potremmo fare molto probabilmente dal punto di vista efficace di efficacia dal lato pratico ma senza dubbio la popolazione in questo momento ha bisogno di sentire che tutto il comune lavora a suo fianco in maniera unitaria per cui il nostro voto sarà senz'altro positivo grazie 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 consigliere consigliere ribetti prego guardate sarò velocissimo telegrafico proprio noi il sindaco lo votiamo l'ho detto prima però ci tenevamo a lasciare come gruppo una cosa cioè quando noi ci mettiamo la buona volontà l'abbiamo fatto vedere anche l'altra volta però non ci piace essere attaccati di demagogia lo dico a nome del gruppo perché secondo noi ripetiamo gli abbiamo indicato tante piccole leve questo comune può fare molto allora quando sentirci che quando facciamo vi diamo dei suggerimenti vi diamo dei consigli poi sentirci attaccare di essere demagogici ecco questo non ci piace però sul liter del documento no prima è stato il collega di gruppo quindi il gruppo è stato attaccato di qualcuno dall'assessore che adesso non ce n'è anche quindi non lo vedo in aula quindi potrebbe forse venisse a guadagnare lo stipendio piuttosto che venire ad attaccare noi di demagogia grazie bene grazie consigliere salvador prego breve grazie presidente breve sindaco e guardi prima pensavo a cosa dire durante le predichiarazioni di voto francamente l'ha lette già lei e mi ha fatto e sono le due cose che ha fatto piacere a cui chi ha detto la prima perché ha messo l'evidenza sulla formazione e sì sulla formazione la prima è sulla formazione è successo e non lo so cosa sia successo e pertanto sì ho perso anche il filo del discorso francamente la formazione grazie perché appunto è la volevo riprendere quello che diceva Gianni Franchin che è la come dire il tessuto il tessuto economico produttivo della provincia del territorio è qualcosa che si è diventato a lungo ecco qualcosa che la ricostruzione non è una cosa che si parte da un'improvvisazione da piccoli provenimenti a spot ma è appunto dalla formazione che riparte da lì che io e noi come fiume chiediamo che lei solleciti anche la regione in questo senso che ha competenza a riguardo nel elaborare progetti che lei voi come giunta e noi come consiglio nel suggerirveli progetti che possono essere utili poi a noi perché poi alla fine cade su di noi la scelta che loro fanno e la seconda cosa che ha fatto piacere al fiume è che lei ha posto come dire la questione su la condivisione di questo documento è inutile produrre un documento e poi siamo tutti d'accordo e parliamo qua in consiglio e ognuno deve dire che questo documento è inutile se siamo noi i primi a non aver fiducia in questa cosa che noi produciamo diciamo sollecitiamo abbiamo la forza di chiedere allora è anche inutile veramente fare il documento ma in questo senso non perché il documento non produce come dire degli impegni o dei provvedimenti concreti ma ha ragione lui quando dice che è inutile che produciamo un documento e poi veniamo qua e lo sfiduciamo perché pensiamo che sia inutile no è utilissimo proprio perché identifica un territorio e voi lo rappresentate e voi rappresentate nella città che ha fiducia nell'uscire da questa crisi grazie grazie consigliere consigliere Manzon prego rapidamente anch'io il voto naturalmente di sostegno a tutto il lavoro che è stato fatto per produrre il documento però quel che volevo segnalare in concordia con quel che cinque minuti fa diceva il sindaco è questo noi siamo una comunità in questo momento l'amministrazione comunale ha il dovere di essere vicino a quella parte della sua comunità che si trova in difficoltà quindi una forma di condivisione per questo dramma che si sta vivendo sul territorio due noi abbiamo il dovere dell'ottimismo ecco il dovere dell'ottimismo nasce dalla consapevolezza il mio non è certo l'ottimismo di Berlusconi che aveva tutto un altro tipo di volontà no no posso scherzarci tranquillamente ecco l'ottimismo l'ottimismo nostro nasce dal fatto che nasce dal fatto che noi contiamo sempre di poter ritrovare delle buone idee che sicuramente non risalveranno la questione nella sua totalità ma che potranno essere dei modi per rimettere in moto un territorio che in questo momento è in difficoltà e quindi noi immaginiamo di fare tutti quegli sforzi necessari per produrre delle idee che aiutino il territorio allora per noi produrre delle idee significa contare su noi stessi su quel poco che possiamo fare qua da vicino e su quel tanto che possiamo attivare a distante senza queste idee questo investimento su quello che possiamo fare ricadiamo ecco sulla versione Giannelli se ne è andato ecco le sue versioni catastrofiche di solito fanno perno è qua? no se ne è andato ecco o Giannelli ha un super ottimismo attraverso il quale si può arrivare a costruire l'aeroporto ecco a Pordenone questo era uno dei seccovalli di battaglia oppure secondo Giannelli saremo travolti dalla grande sfera che sta maciullando tutti dappertutto no io penso che la verità un po' stia nel mezzo noi facciamo tutto quello che riusciamo a fare con la nostra capacità per il territorio quindi una vena di ottimismo deve restare perché se no moriamo qua e guardiamo quello che sta succedendo fuori grazie grazie consigliere nessun altro iscritto dichiaro chiuso le dichiarazioni di voto bene comunica e darà via le procedure di votazione si porrà in votazione prima l'emendamento allora dichiaro l'emendamento pongo in votazione l'emendamento scusate scusate prendete posto per cortesia bene pongo in votazione l'emendamento alla proposta di deliberazione numero 42 2013 presentato silenzio per cortesia no scusi consigliere dal massa già una certa per cortesia si metta seduto l'emendamento presentato dai consiglieri comunali Riccardo Piccinato Mara Piccin Isena Peresson già distribuito in copia dichiaro aperte le votazioni dichiaro chiuso le votazioni l'esito della votazione seguente presenti 37 votanti 37 maggioranza 19 favorevoli 3 contrari 32 astenuti 2 l'emendamento viene respinto pongo ora in votazione la deliberazione avente il seguente oggetto proposta numero 42 2013 approvazione documento strategie ed azioni per l'emergenza lavoro a Pordenone per il contrasto alle gravi crisi aziendali e per il sostegno al lavoro dichiaro aperte le operazioni le operazioni di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto l'esito la votazione è la seguente presenti 37 votanti 37 maggioranza 19 favorevoli 37 contrari nessuno astenuto la delibera viene approvata bene secondo l'ordine dei lavori deliberati dalla commissione dalla conferenza presidenti affrontiamo adesso le due interrogazioni prego date la parola al consigliere io mi scuso perché l'ora non è però dobbiamo secondo me come mozione d'ordine affrontare un problema che è urgente che è l'approvazione della regolamentazione dell'ambito rispetto le due interrogazioni la proposta di quella di fare prima la delibera e dopo le interrogazioni perché sono le 10 e 20 perché bisogna chiudere perché l'ultimo è l'ultimo consiglio comunale dell'anno noi pensiamo sia opportuno approvarlo entro l'anno che debba essere discussa questa sera sicuramente la deliberazione chiedo se qualcuno consigliere dal massa le chiedo se è possibile grazie allora chiedo se sono tutti d'accordo i capigruppo o se c'è qualcuno che si oppone bene non vedo nessuna opposizione pertanto passiamo allora alla deliberazione sì ma scusate ma perché non intervenite tempestivamente sempre no avevo chiesto nessuno si è scritto e ho dichiarato che si passava la deliberazione consigliere di disbetti bene passiamo alla deliberazione numero 43 bene allora un attimo che devo proposta numero 43 2013 regolamento per l'accesso agli interventi ai servizi e alle prestazioni in natura sociale socioassistenziale socioeducativa erogati dal servizio sociale dei comuni dell'ambito distrittuale urbano 6.5 di Pordenone prego assessore Romano grazie siamo arrivati a una fase finale importante di un lungo lavoro di tentativo di mettere assieme un regolamento unico per i cinque comuni dell'ambito nel senso che è un lavoro importante perché tutti i comuni devono condividere il testo dello stesso argomento quindi abbiamo fatto un percorso calibrato mirato in modo da poterlo condividere tutti quanti e senza urtare la sensibilità politica dei singoli componenti dell'ambito vi leggo per non per non perdere tempo leggo gli appunti che mi sono fatto per essere più rapidi nell'enunciazione parto per chi di voi non lo conosce questa ente che è l'ambito faccia una breve cronistoria della sua esistenza delle sue funzioni e il percorso che è stato fatto dalla legge 33 dell'88 ad oggi passando attraverso i caposaldi della legge 6 del 2006 la regione ha fatto un percorso evolutivo indirizzato alla promozione e alla tutela dei diritti della cittadinanza sociale il figlio di Venezia Giulia ha inteso potenziare il proprio sistema di protezione sociale in un'ottica di innovazione partendo dalla consapevolezza delle profonde trasformazioni sociali che sono intervenute in questi anni si sono delineati nuovi profili di rischio e nuove domande sociali ricordiamo le dinamiche demografiche con il progressivo invecchiamento della popolazione l'lungamento della vita media la tendenza a non fare figli la conseguente denatalità e le immigrazioni poi i cambiamenti delle forme di convivenza con diminuzione di matrimoni aumento dei divorzi e delle separazioni la pluralità delle forme familiari i nuclei familiari monocomposti sono tutte realtà che sono intervenute in questi ultimi anni in più le trasformazioni al sistema produttivo questa sera abbiamo discusso molto sulla flessibilità precarietà e negli ultimi anni la perdita del lavoro che è stressata proprio esplosa in questi ultimi tempo soprattutto per il nostro punto di vista pordenonese di Porcia e Orcenico la regione ha voluto declinare con precisione compiti e metodi di organizzazione stressando ecco i concetti di associazione e di integrazione questi sono i nuovi concetti con i quali è stato costruito questo documento e l'associazione e l'integrazione è necessaria per rilanciare un sistema sociale con prestazioni capaci di garantire un'ampia gamma di servizi in un'ottica di raccordo senza creare doppioni e quindi in un'ottica di ottimizzazione della spesa e dei servizi anche a livello locale l'associazione e l'integrazione portano sicuramente è una visione è un'analisi più vera e maggiormente obiettiva che attraverso gli occhi preparati e formati del personale facilita una lettura uniforme riducendo i personalismi e le differenziazioni involontarie da parte del personale che deve giudicare anche l'erogazione dei servizi sarà maggiormente equa e si tarerà su livelli di vero bisogno quindi non ci saranno differenze tra cittadini e cittadini il meno possibile la logica dell'associazione e dell'integrazione porta sicuramente un'economia di sistema e conseguentemente finanziaria la legge 33 dell'88 chiede ai comuni di convenzionarsi per l'esercizio delle funzioni del servizio sociale e subordino all'ottenimento del finanziamento regionale alla stipula della convenzione predetta ecco si comincia nell'88 a dire non lavorate più da soli ma lavorate in rete lavorate assieme in associazione con gli altri comuni con la legge regionale 12 del 94 viene definito la coincidenza tra ambito territoriale del distretto sanitario e quello dei servizi sociali e con la legge regionale 49 del 96 viene organizzato il servizio sociale dei comuni che corrisponde a quello d'ambito che nel nostro caso comprende i comuni di Cordenons Porcia Rovalido Impiano Sanquerino e Pordenone e si chiamerà ambito 6.5 La prima convenzione fu sottoscritta il 2 luglio del 97 con scadenza al 1 luglio del 2002 dopo prorogo la seconda convenzione entrò in vigore il 15 dicembre del 2003 e la terza convenzione è scaduta in febbraio di quest'anno e in febbraio di quest'anno è stata rinnovata la quarta convenzione sottoscritta dai sindaci dei cinque comuni dell'ambito distrettuale la legge 6 caposaldo all'articolo 17 prevede che i comuni esercitano in forma associata la gestione e la funzione di programmazione del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali tali esercizi associato assume la denominazione di servizio sociale dei comuni e diventa requisito per accedere alle risorse regionali la regione dice o vi associate o non vi do i contributi il servizio sociale dei comuni è disciplinato da una convenzione tra i comuni che formano l'ambito distrettuale e prevede la durata della gestione le funzioni i servizi a svolgere le modalità di esercizio i criteri i proceduri di nomina del responsabile nonché la costruzione e competenze dell'ufficio di direzione e di programmazione i rapporti naturalmente finanziari e le modalità di informazione tutto questo è previsto dal regolamento l'assemblea dei sindaci che formano l'ambito distrettuale e l'organo fondamentale di indirizzo che ha concordato di confermare la delega al comune di Pordenone quale ente gestore presso il quale è costituita la DOA la dotazione organica aggiuntiva nella quale è inserito il personale di ambito quindi l'assemblea dei sindaci con i rappresentanti dei cinque sindaci delle città che compongono l'ambito hanno riconosciuto l'ente gestore del comune di Pordenone e con all'interno la dotazione organica la nuova convenzione ha riassunto e riordinato gli atti precedenti e ha aggiornato la definizione delle materie previste per la gestione associata vi do alcuni numeri per quanto riguarda l'ambito che tante volte è difficile conoscerli e quindi vi do la grandezza di questa struttura 70 dipendenti 27 assistenti sociali 26 assistenti domiciliari 2 educatori 14 impiegati amministrativi 12,5 milioni di euro di bilancio 1 milione 100 circa messo dal comune di Pordenone 10,5 milioni messi dalla regione 4.500 utenti una sede centrale a Pordenone e 4 uffici periferici nei comuni il piano di zona è il documento fondamentale di pianificazione delle azioni dell'ambito prevede in sintesi obiettivi volti a promuovere l'integrazione sociosanitaria punto di accesso unico strumenti di valutazione integrata dei bisogni progettazione personalizzata eccetera 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 perché non vi annoio nel leggere tutti gli obiettivi del piano di zona ora a questo punto siamo arrivati alla parte conclusiva si rende necessario procedere con un comportamento che tende all'inubicità dei servizi offerti da parte di tutti i 5 comuni prima ogni comune aveva il suo regolamento e il servizio sociale dei comuni doveva comportarsi tenendo conto delle esigenze dei singoli comuni a questo punto nell'atto di convenzione dell'ultima convenzione è stata prevista la ricerca e la possibilità di emanare un regolamento unico per tutti i 5 comuni e siamo arrivati a questo punto dopo un lungo percorso è stata completata la ricerca del lavoro fatto per dare origine al regolamento per l'accesso agli interventi e ai servizi alle prestazioni di natura socio-sanitaria socio-sistenziale e socio-educativa erogati dal servizio sociale dei comuni dell'ambito distrettuale 6.5 di Pordenone il regolamento ecco entriamo adesso nella fase della descrizione del regolamento cosa dice il regolamento il regolamento disciplina i criteri le procedure le modalità di accesso alle prestazioni sociali agevolate agli interventi e servizi sociali oggetto di gestione associata erogati dall'ambito a cui ciascun comune associato dovrà attenersi il regolamento disciplina inoltre in particolare quanto non già questo importante regolamentato da apposite norme statali e regionali da convenzioni o da regolamenti per esempio quello del lente gestore da intendersi come comune di Pordenone e da provvedimenti di natura speciale in vigore e emanati nel corso di validità del presente regolamento quindi si integra a quello che già c'è si può dire quasi che potrebbe essere un testo unico dell'ambito una ricerca fatta per poter omosionalizzare tutto il lavoro i servizi e le prestazioni disciplinate nel presente regolamento sono tesi a favorire le interazioni tra il bisogno sociale il territorio e la comunità che lo abita con l'obiettivo di rafforzare la coesione sociale attraverso la prevenzione del disagio e la condivisione dei compiti perfetto prevede allora è un regolamento preciso e puntuale ma prevede anche situazioni emergenziali eccezionali questo è fondamentale evidenzia con precisione i destinatari e tiene conto anche delle persone comunque presenti nel territorio con problemi urgenti e differibili prevede deroghe per situazioni economiche che variano improvvisamente per esempio l'ISEE dell'anno precedente attualmente sapete che è stato emanato dal governo la nuova ISEE la stiamo studiando perché ci sono delle normative importanti sul nuovo concetto di ISEE non ve ne parlo qua ma casomai più tardi se volete fare qualche domanda in merito vi è piacere di rispondervi allora in questo regolamento ci verrete l'applicazione e la partecipazione alla spesa attenzione questa è una novità era stata prevista la partecipazione alla spesa come inserimento dei minori in strutture residenziali e semi residenziali per il SAD però è stato accolto un suggerimento in convenzione e è stato previsto che non venga applicata la compartecipazione perché è stato promosso un periodo di sperimentazione di 18 mesi per cui faremo un periodo di sperimentazione e alla fine valuteremo come sono andate le cose anche nell'ottica di non applicare la partecipazione la lasciamo comunque nel testo verrà valutata alla scadenza della fase sperimentare e poi l'assemblea dei sindaci deciderà come fare in fase di approfondimento della bozza in commissione sono emerse appunto una serie di proposte l'abbiamo appena detto tale fase servirà a testare gli effetti scusate l'ho appena detto scusate descrive regolamento con precisione gli interventi del servizio sociale e professionale del servizio socio-assistenziale e socio-educativo precisa l'intervento per la domiciliarità e con la descrizione degli interventi le condizioni e criteri di accesso una descrizione particolare viene riservata ai passi domicilio un capitolo unico che descrive i passi domicilio tutte queste cose prima nei regolamenti precedenti non c'erano sono state raccolte messe a disposizione proprio di una lettura unica nel capitolo degli interventi a favore dei minori si pone comunque al centro la famiglia molta attenzione viene messa ai minori è stata la famiglia è al centro di tutta l'attenzione verranno messi delle azioni a tutela appunto della famiglia e quando ci siano dei problemi disgreganti talmente gravi soltanto in quel caso quando non ci sia la possibilità assoluta di mantenere il gruppo si interverrà con l'inserimento in strutture di protezione residenziale o d'altri vengono anche descritti servizi integrativi che abbiamo già e anche la possibilità di prevedere degli altri per l'infanzia e l'adolescenza con precisione si analizzano gli interventi educativi territoriali nelle forme diverse di offerta e ancora si prevedono interventi per l'integrazione sociale e sociolavorativa attraverso i servizi oriental lavoro per i disabili il capitolo sulla disabilità tratta interventi specifici e standard in favore delle persone affette da disabilità con riferimento a legge 41 la 104 del 92 il sostegno al reddito è un'altra grossa novità che viene sviluppata con questo viene trattata analizzata con questo regolamento con precisione condivizia di particolari per cercare di uniformare il più possibile l'aiuto economico prevedendo finalità e situazioni economiche al minimo vitale in questo caso è stato recepito quasi il concetto del redditometro che era stato proposto l'anno scorso e a cui proprio anche il nuovo ISEE cerca di seguire questa strada verranno applicate delle azioni di controllo il più possibile adatte ad avere un giudizio obiettivo della situazione del cittadino che richiede l'aiuto economico ordinario o straordinario in sintesi vi ho esposto il quanto è stato ottenuto attraverso il confronto fra tutti i cinque i comuni vi comunico che Sanquerino ha già deliberato in consiglio Roveredo ha già deliberato in consiglio Porcia ha già deliberato in consiglio spero questa sera che il consiglio di Pordenone delibri e manca soltanto Cordenons che fra qualche giorno delibererà anche lui ho finito l'esposizione grazie assessore credo che non ci siano richiesti i chiarimenti sì richiesti i chiarimenti prego questa volta è tempestiva grazie presidente chiedo scusa se faccio una domanda che potrà sembrare banale però non è la mia commissione e sinceramente ne capisco poco di queste cose e volevo capire il costo stavo leggendo la tabella B dove si parla del costo orario medio di un assistente domiciliare leggo 16.50 e volevo capire come viene erogato il servizio tramite delle cooperative o c'è o vengono erogati i finanziamenti direttamente alle famiglie che poi possono prendere chi vogliono se è una bannante qualcuno non so per caso mi riferisco soprattutto alle famiglie che hanno dei familiari dei minori affetti da handicap il nostro servizio che è il servizio assistenza domiciliare e sono questi assistenti domiciliari che vanno nelle case ad assistere le persone che hanno bisogno per il servizio di tipo sociale ed è anche previsto l'intervento di accreditamento a persone esterne nel momento in cui il servizio SAD non riesca più a far fronte alle richieste quindi si può passare al servizio esterno che sia accreditato e viene basato su quel tipo di costo ora in base al quantitativo di minuti e di ore che fa ma la maggior parte del tempo viene coperta dal nostro servizio SAD sono nostri dipendenti cioè dipendenti dell'ambito dei cinque comuni dei cinque comuni sono dipendenti dei cinque comuni e questa è la novità sono entrati nell'ambito come le dicevo prima i numeri degli assistenti sociali degli assistenti domiciliari degli amministratori però questo questo intervento di compartecipazione per ora è stato posticipato perché siamo nella fase sperimentale non facciamo ancora pagare si si tiene conto ci sono dei regolamenti per l'accesso per adesso continua ad essere gratuito fino alla fase sperimentale poi rimane però nel regolamento la possibilità della compartecipazione fra un anno fra due anni quando finirà faremo l'assemblea dei sindesi farà una valutazione in base ai risultati ottenuti in base a diversi criteri che sono lo stato di malattia la solitudine la mancanza della rete familiare la mancanza della rete amicale la necessità di intervento perché il cittadino non può muoversi dal proprio l'invalidità è stata prevista l'invalidità civile e quindi sono tutti i servizi che sono legati alla gravità della persona e naturalmente a reddito grazie assessore nessun altro chierimento pertanto dichiaro aperta la discussione consigliere del ben prego grazie a me spiace assumere il ruolo di quello che pretende che un regolamento arrivi in consiglio comunale in forma perfetta intanto diciamo che in ogni buon regolamento sarebbe buona norma partire con un glossario in modo che noi tutti quanti si abbiano la stessa interpretazione di quello che si legge e così magari potremmo superare le questioni dell'azione dialogica come processo di empowerment sociale che è quello che inquadra l'articolo 2 per quello che è scritto cioè praticamente noi dobbiamo anche essere chiari in cosa intendiamo per alcune cose e non nasconderci dietro formulazioni estrapolate da qualche parte per esempio dalla delibera 122 del 2008 del 21 luglio 2008 del comune di Bologna io mi aspetterei che quando si fa un regolamento non sia un pezzettino copia e incolla come qualche volta ci è capitato ma che sia tutto un percorso logico da noi così per esempio troviamo anche modifiche di alcune parole che sono in quel regolamento quando a Bologna si dice che articolo 4 numero 2 loro parlo di insufficienza del reddito qua si scrive inadeguatezza fra essere adeguato e essere sufficiente c'è una diversità terminologica e noi qua mettiamo svantaggio personale e sociale in una situazione di fragilità delle reti primarie di riferimento non chiedo cosa vuol dire dico solo che siccome persona è un insieme di individui e relazioni queste relazioni sono il contenuto sociale pertanto diventava ridondante quella definizione ma ancora di più se vogliamo quando noi possiamo parlare articolo 3.5 di minori italiani o stranieri tanto vale scrivere minori perché sono compresi tutti e ovviamente se è previsto un'azione di rivalsa questa azione di rivalsa sia scritta in termini generali senza dover dire presso il comune di residenza perché magari gli stranieri non hanno comune di residenza se poi noi andiamo anche a esaminare contenuti di questo documento potremmo andare a dire all'articolo 11 che il punto 4 mentre noi parliamo di interventi professionali del servizio sociale professionale ci troviamo un riferimento al punto 4 del servizio sociale comunale andando avanti ancora noi potremmo avere l'articolo 12 il numero 2 che si avvalgono di professionisti di area educativa e assistenziale io penso che bisogna essere precisi nel stabilire quali siano i professionisti che di solito oggi vengono formati attraverso una formazione universitaria non che si considerino professionisti ciò che magari sono solo operatori dell'ambito socio-culturale poi noi andiamo arrivo all'articolo 15 dove al punto 3 lettera B mi trovo persone anziane ultra 65 anni con ridotte capacità di autonomia e al punto C le stesse persone solamente che non sono ultra 65 anni tanto vale fare una previsione unica e dire che si dà la preferenza a quelli che sono ultra 65 anni ma se dovessimo ancora andare avanti noi ci troveremo all'articolo 31 dove al comma 1 leggo gli interventi per l'integrazione delle persone con disabilità fino al 64esimo anno di età in servizio della certificazione ex legge 104 92 mi chiedo se chi scrive ha contezza dei termini che usa perché noi siamo mai abituati a distinguere persone fra gli ultra 65 anni e quelli che sono fino al 65esimo anno l'assessore Romor che sta leggendo sa che lui oggi è nel suo 64esimo anno di vita come lo è il sindaco come quell'assessore come lo sono io e per me il 31 luglio 2014 inizierà il 65esimo anno per cui si troverebbe per un anno senza copertura perché è fino al 64esimo quando comincia il 65esimo non è più coperto e deve aspettare le regole dell'ultra 65 quindi per dire proprio una semplice riflessione sul contenuto italiano e logico di quello che si scrive su questo regolamento manca poi un'altra cosa se io parlo se io parlo della legge 104 ovviamente mi riferisco all'articolo 3 e l'articolo 3 ho due commi il primo o il terzo in funzione della gravità se io faccio una definizione generica ex legge 104 è sicuramente un modo inadeguato di affrontare i problemi ma come se non bastasse andiamo a vedere i requisiti allora mi trovo sui requisiti parte 1 scusa parte 2 che mi dice come elemento l'assegno di accompagnamento vi sfido a trovare una norma che parla di assegno di accompagnamento quando il termine esatto è indennità di accompagnamento perché indennità è reddito indipendente poi ancora quando parliamo di rendite INAIL non è scritto se sono in ragione mensile o annuale perché se fosse anche in ragione annuale noi potremmo parlare di quelle ristori indennizi una tantum che l'INAIL fa come riferimento al danno biologico sotto il 15% perché è da quel livello che comincia la rendita noi qua discriminerebbero le persone in funzione della gravità della loro invalidità in qualche modo privilegiando chi ha meno del 15% rispetto a quello che ha più del 15% cioè un'inversione logica che la copertura va a quello a chi ha più bisogno non a chi ha meno bisogno dopo ci sono anche altri provvedimenti previdenziali per esempio l'equindennizzo che è sempre un autantum che potrebbe avere una ragione annua ma di questo non si è assolutamente detto e come chiosa finale se volete si dà al punto C gli indicatori di possesso eccetera il possesso di auto di cilindrato superiore a 80 cavalli mentre sappiamo che tutti quanti i cavalli sono un criterio di indicazione di potenza non di cilindrata e ovviamente assenso la proprietà non nel possesso di un bene pubblico registrato grazie assessore assessore Bonato prego consigliere non assessore ancora scusi ha ragione per fortuna spero mai spero mai allora guardate data l'ora e anche data la riduzione delle mie capacità di comprensione dirò a nome del gruppo consigliare del PD di alcune cose noi esprimiamo un giudizio assolutamente positivo di questo regolamento all'ilà di alcuni elementi di dettaglio che appena accennato a cui appena accennato il consigliere del Ben non leggerò neppure quello che abbiamo predisposto dirò solo alcune cose che ritengo importanti che ritengo importanti il fatto che sia nel merito che nel metodo nel metodo vorrei ricordare che è stato frutto di un gruppo tecnico tecnico politico che ha lavorato per molti mesi e quindi questo per noi anche con modalità di partecipazione quindi questo è un elemento importantissimo nel merito mi sembra che richiami ai principi fondamentali non sto qui a ripetere quelli dell'articolo 38 della Costituzione e del tondo richiamate anche in tutte le normative specifiche volevamo cogliere questa occasione per ribadire che quello che oggi ci pare scontato l'esistenza dell'ambito sociale non lo è assolutamente è stato frutto di un percorso soprattutto per l'ambito sociale urbano insomma 6.5 è stato frutto di un percorso lungo complesso difficile conflittuale come tutte le cose che diciamo comportano dei cambiamenti ma che ora ci siamo e la testimonianza del supporto politico dell'attività di manutenzione diciamo è data da una unanimità dell'assemblea dei sindaci che è un elemento importantissimo molto importante ciò non ci esime dal fatto di presidiare costantemente affinché l'ambito diventi uno strumento sempre più di equità e di omogeneità perché a fronte dei richiami periodici delle sirene dei diciamo delle specificità territoriali li chiamerei di campanili ma insomma ecco anche il rischio della frammentazione a cui assistiamo oggi l'ambito non perda di vista quello che è un valore importantissimo quindi come vedete sto chiudendo spero che i miei colleghi del PD non ce l'abbiano ma credo che a questo punto qua sia un po' difficile il ragionale sull'articolato una cosa metto in evidenza il discorso della domiciliarietà ecco ricordiamo che più il SAD funziona e più potremo pensare veramente ad una scelta da parte delle persone e delle strutture residenziali in genere sappiamo ma non è una certezza questo che se ci sono servizi domiciliari che soprattutto come è riportato in questo regolamento si muovono anche per le emergenze cioè perché le malattie ictus o alto le malattie gravi non hanno le procedure burocratiche ma qui è previsto anche la procedura d'urgenza a fronte di malattie che generano la non autosufficienza e quindi c'è bisogno di interventi urgenti per impedire o per ritardare l'inserimento in strutture da parte di persone che non lo desiderino l'altra cosa io ridurrei un po' l'enfasi sulla famiglia oppure crediamo tutti fortissimamente alla famiglia come luogo naturale di cura di crescita così però sappiamo anche che oggi in una società disorientata frammentata o come dice Bauman considerando negativamente il termine liquidità dobbiamo riconoscere anche che la famiglia è fragile e che molto spesso le fragilità e i disagi della famiglia si scaricano sui soggetti più fragili che sono i minori allora io non ritengo forse l'assessore l'ha detto un po' diciamo con enfasi mi auguro che si debba arrivare fino all'ultimo momento c'è una serie di interventi a sostegno della famiglia e da questo punto di vista ci fa piacere richiamare anche quel nuovo intervento diciamo integrativo no per conciliare la conciliazione dei tempi di cura le pari opportunità adesso non mi ricordo l'articolo ma non ho neppure voglia di andare a ripescarlo no per dire che va fatto tutto per sostenere il minore in famiglia ma io ho assistito a moltissimi casi credo che sia anche la vostra presenza quindi adesso parla con un operatore del PD anche di situazioni che sono state o per paura un po' diciamo anche di quelli titoli scandalistici e anche un po' ipocriti della stampa quando dice bambini rubati alle madri strappati alle madri e alla famiglia quando sappiamo che se rimanessero in famiglia questi bambini qui incontrerebbero grossi problemi per il loro sviluppo allora è giusto sostenere la famiglia e fare il possibile ma credo che ci sia anche il limite da riconoscere che a volte le problemi della famiglia sono tali e tanti che il minore rischia di non avere di questi tempi lo sento frequente questa cosa qua e siccome il costo delle strutture per minori è molto elevato ecco non vorrei che questo fosse ricordo solo in chiusura che l'OMS ha dichiarato nel 2001 che il 18,50% delle persone con patologie gravi mentali o caratteriali in età adulta hanno segnali già nei primi anni di vita segnali che sono stati sottostituzionali matti o dimenticati chiudo chiedendo all'assessore e anche al sindaco che si facciano promotori di una situazione particolarmente diciamo incomprensibile da parte mia e questo riguarda anche la la giunta di centro-sinistra precedente ovvero noi manchiamo in regione di una comunità per terapeutica per minori e adolescenti e i 12 minori e adolescenti che attualmente sono stati per ordine del tribunale allontanati dalla famiglia inseriti in comunità terapeutiche sono da Chieti a Torino è una cosa spaventosa perché non significa costi economici in più significa una riqualificazione della spesa in ambito locale una possibilità di mantenere legame con la famiglia visto che la struttura l'accoglimento in comunità per i minori è sempre temporaneo e la possibilità anche per gli operatori di seguire meglio il progetto di vita di controllare la sua efficacia di fare la valutazione perché gli operatori stessi dicono che quando devono andare in 100 età cioè fare 500-600 km per andare a trovare verificare il progetto di vita il piano personalizzato di questo minore voi capite che lo fanno una volta due all'anno e queste comunità a volte rimandano rimandano e il minore continua a stare lontano dalla propria diciamo comunità di riferimento lontano dalla propria famiglia lontano dagli operatori che lo seguono e quindi con una efficacia dell'intervento con costi elevatissimi assolutamente diciamo così mi sono persa il termine ma avete capito bene io penso che a nome dei consiglieri posso considerare questo intervento anche come dichiarazione di voto grazie grazie consigliere Bonatto consigliere Camibo prego grazie presidente spiace dover parlare di argomenti così importanti a quest'ora dopo 5 ore di consiglio comunale francamente penso che questa sera abbiamo dato un pessimo esempio discutendo per 4 ore e mezza di una delibera che poi è stata votata all'unanimità e che quindi si poteva veramente liquidare al massimo un'ora di interventi quindi invito tutti i consiglieri a ripensare al regolamento di questo consiglio comunale e soprattutto alle modalità dei nostri interventi perché non è possibile parlarsi addosso abbiamo criticato abbiamo criticato io sto facendo una critica che riguarda tutti e non sono intervenuto prima ok benissimo poi se vogliamo parlare fuori microfono ed interrompere facciamolo pure ecco abbiamo cerchiamo di avere anche rispetto di chi sta parlando io parlo a nome personale e questo discorso lo rivolgo a tutti i gruppi consigliari benissimo ci ho detto ci ho detto perché abbiamo tutti criticato la politica che non è capace di dare le risposte e ci siamo parlati addosso per quattro ore e mezza e argomenti importanti e fondamentali per la nostra società non che quello di prima non fosse importante e fondamentale ma poi alla fine ne è uscito fuori l'unanimità dobbiamo relegarli così e liquidarli in pochi minuti comunque vengo all'argomento dell'intervento e della delibera sicuramente questo regolamento è da accogliere con favore nel senso che è il primo regolamento comune per la gestione integrata dei servizi sociali dei vari comuni dell'ambito quindi è un passo significativo nella direzione della uniformità della gestione del servizio e penso anche dell'erogazione del servizio nei comuni dell'ambito e credo che questo vada un po' nel segno di quel conurbamento che di tanto di cui tanto abbiamo sentito parlare ma di cui ben poco ci siamo finora occupati credo che intervenire sui problemi delle persone e delle famiglie dal punto di vista socio assistenziale e socio educativo sia veramente importante ed importante farlo in modo uniforme per tutti i comuni che sono vicini alla nostra città credo però anche di dover fare una critica e credo in questo l'intervento del consigliere del ben credo sia stato veramente emblematico e lo ringrazio di aver fatto questo intervento perché mette in luce la difficoltà certamente di trovare delle regole comuni ma ancora di più la difficoltà di applicare veramente queste regole comuni in modo uniforme che cosa voglio dire voglio dire l'ambito distrettuale in questi anni ha funzionato ha funzionato come doveva allora l'auspicio è che il fatto di avere un regolamento comune significhi anche equità trasparenza pubblicità di un servizio che viene gestito veramente in modo comune è inutile dettarsi delle regole e poi assistere a quello in cui abbiamo assistito in questi anni e lo dico per esperienze personali o che mi sono state riferite in cui si è lavorato ognuno per proprio conto dove i funzionari addetti emanavano provvedimenti che poi venivano soppiantati da altri provvedimenti ulteriori revocati ribaditi cioè una grandissima confusione allora mi auguro veramente che questo regolamento non sia solo un elenco di norme e di regole ma serva per gestire meglio il servizio che francamente non ho trovato un buon servizio in questi anni a questo aggiungiamo l'importanza di un'informazione condivisa per tutti i cittadini di questi cinque comuni che fanno parte dell'ambito perché senza un'adeguata informazione sull'accessibilità ai servizi sulle possibilità credo che poi anche non si arrivi a dare un servizio come quello che qui si vuole proporre equità trasparenza pubblicità dei processi e permettetemi di sottolineare sussidiarietà credo sia molto importante questo principio e in modo particolare per quanto riguarda l'assistenza domiciliare credo che la strada su cui l'ambito e i comuni dell'ambito debbano lavorare sia proprio quella di intervenire là dove secondo il principio di sussidiarietà la presenza delle associazioni di enti privati di cooperative non riesce a svolgere il servizio perché il coinvolgimento il fare rete si fa non soltanto fra i comuni dell'ambito ma si fa con il territorio con le associazioni con chi si occupa di erogare dei servizi dico ad esempio per quanto riguarda l'assistenza domiciliare in modo particolare l'assistenza domiciliare pediatrica che nella provincia di Pordenone ci sono 60 famiglie che hanno minori che presentano delle situazioni di bisogno di assistenza domiciliare 60 famiglie non sono poche per la nostra provincia di cui il 30% riguarda bambini affetti da tumore quindi questo ambito l'ambito dell'assistenza domiciliare ma un po' tutti i servizi cui si rivolge questo regolamento credo che debbano avere come principio fondamentale quello di fare rete e di migliorare la vita e la qualità della vita degli assistiti e delle loro famiglie il ruolo molto importante che deve avere il servizio pubblico in questo è nel solco del principio di sussidietà il ruolo di chi deve dare respiro a queste famiglie anche l'assistenza domiciliare si gioca proprio su questo dare cioè la possibilità alle famiglie di avere dei momenti degli spazi dove si può prendere fiato e fare in modo che la famiglia che ha un malato che ha un minore che ha necessità di avere assistenza domiciliare non debba rimanere chiusa fra le quattro mura ma possa avere dei momenti in cui interloquire con il territorio con le istituzioni quindi veramente l'assistenza domiciliare nel suo ruolo non solo sanitario ma appunto socio socio sanitario mi fa piacere che l'assessore abbia focalizzato l'attenzione sulla famiglia però devo fare anche io una critica rispetto a quello che è il testo poi che ci troviamo a dover sul quale ci troviamo a dover deliberare perché all'articolo 39 per quanto riguarda i criteri per la determinazione della situazione economica qui si fa riferimento alla definizione di nucleo familiare e qui appunto aveva ragione il dottor Delben quando diceva forse era bene fare un glossario perché per nucleo familiare si intende quello composto da una o più persone legate da vincoli di parentela affinità adozione tutela o da vincoli affettivi questo richiamo sinceramente ai vincoli affettivi non vedo dove voglia andare a parare nel senso che qui si dà ingresso alla possibilità di usufruire di questo tipo di servizi anche a due amici che condividono un appartamento ma che per me non costituiscono un nucleo familiare allora se vogliamo veramente mettere al centro la famiglia in quanto primo nucleo della nostra società in quanto primo momento di crescita di educazione e di assistenza ecco non credo che il riferimento generico a dei vincoli affettivi possa trovare in qualche maniera sponda rispetto a questo e poi permettetemi un'ultima sottolineatura perché anche qui noi possiamo fare i regolamenti migliori di questo mondo ma poi dobbiamo anche farci valere con le istituzioni che hanno la possibilità di destinare i fondi che andranno a coprire i costi di questi servizi e farci valere veramente fino in fondo perché qui una responsabilità dobbiamo prendercela un po' tutti nel senso che se continuiamo a spendere 200 mila euro con la vecchia giunta Bolzonello e con l'assessore Zanolin e adesso con lei assessore Romoro altri 100 mila euro per il gattile dobbiamo chiederci anche se sono soldi della regione perché la regione continua a finanziare il gattile e non trova i fondi della legge regionale 11 2006 articolo 8 ad esempio per il sostegno delle gestanti in difficoltà quindi è vero è una società che cambia è una società che non fa figli ma bisogna anche vedere perché non si fanno questi figli con una regione che ripeto non riesce a trovare nemmeno i fondi per il sostegno alle gestanti in difficoltà ecco allora che ci sono sicuramente degli aspetti positivi ci sono anche delle forti perplessità soprattutto su come sono state gestite le cose fino ad ora ma non nei massimi sistemi ma proprio nella concretezza dei servizi che sono stati offerti ai cittadini quindi sicuramente ci sarà tutta la nostra attenzione nel vigilare che questo regolamento venga applicato venga applicato correttamente in modo uniforme in tutti i comuni dell'ambito ma in questa fase preannuncio comunque un voto di astensione grazie consigliere consigliere collaoni prego beh due sono gli aspetti positivi di questo regolamento che ci viene sottoposto uno di metodo e uno di sostanza almeno dal nostro punto di vista parlo a nome del gruppo del fiume per quanto riguarda il metodo è stato già sottolineato ed è da proprio rimarcare anni di lavoro sicuramente se non anni mesi di lavoro hanno portato ad un regolamento comune questa non è poca cosa va sottolineato è stato ricordato prima che può essere un ambito un un momento molto concreto per far procedere anche il discorso più generale del connubamento ma senza andare lontano e sognare cose anche forse nell'immediato impraticabili di fatto questo è un punto sicuramente a favore è stato fatto un buon lavoro cinque funzionari dei vari comuni hanno lavorato quindi come dire ci saranno pure anche delle imperfezioni linguistiche che nascondono anche qualche elemento di conflittualità concettuale però insomma è un passo avanti che va sottolineato il secondo aspetto che a noi piace particolarmente come gruppo il fiume è quello della rinviare o comunque di valutare dopo sperimentazione l'idea della compartecipazione questo mi sembra fondamentale non è stato toccato noi l'abbiamo posto subito come questione e va ricordato ma non per dire che noi facevamo in un modo e gli altri un altro qualcuno è per dire che è una cosa su cui riflettere e mi pare assolutamente saggio aver pensato appunto a questa ripeto non so se poi è un rinvio lasciamo pure il regolamento com'è naturalmente tra 18 mesi i sindaci valuteranno anche alla luce di una situazione economica che probabilmente potrebbe essere o forse no naturalmente potrebbe essere mutata ma è una cosa che noi valutiamo in termini sicuramente positivi restano appunto questi due aspetti fondamentali dopodiché certo il regolamento l'ha applicato è qua un percorso da fare è evidente che non basta un regolamento come dire anche come dire perfetto o comunque nel migliore possibile per dopo ottenere un'omogeneità del servizio va da sé ma questo è un percorso che credo i sindaci non si nascondono nel dover percorrere insieme è un lavoro da fare ma credo che questo sia un buon punto di partenza ovviamente anticipo il voto a favore da parte del fiume grazie consigliere consigliere Freschi prego grazie presidente solo due brevissime considerazioni visto anche l'ora l'argomento era stato particolarmente sviscerato anche in terza commissione alla fine di ottobre quando ci siamo riuniti erano state formulate alcune richieste che mi pare siano state accolte per cui la commissione è servita a fare alcune sottolineature che poi il regolamento ha recepito diciamo che il fatto più importante sicuramente è quello di aver messo insieme i lavori per cui non solo i regolamenti ma le esperienze provenienti da situazioni diverse per cui passiamo da una compartecipazione nelle regole ad una compartecipazione anche nelle persone perché nel momento in cui si è costituito l'ambito si sono messi insieme anche le varie esperienze per cui un gruppo di lavoro ci ha lavorato parecchio su è stato un lavoro importante è stato un lavoro anche difficile è un lavoro che risente per cui alcuni aspetti che sono stati sollevati anche questa sera di alcune imprecisioni puoi sentire anche dal fatto di aver messo insieme testi e passaggi diversi che vanno ovviamente perfezionati è un'attenzione alla persona è un'attenzione alla persona più debole pertanto lo sforzo che è stato fatto è stato fatto con questo principio ci auguriamo che quello che andiamo ad affrontare sia un percorso virtuoso dove all'interno ci siano gli elementi di omogeneità di equità di trasparenza a cui facciamo riferimento anche gli interventi che mi hanno preceduto pertanto riteniamo ritengo che quanto è stato è stato recepito dal regolamento sia perfezionabile senza dubbio ma è un importantissimo punto di riferimento parliamo sempre che gli enti devono fare delle economie mettendosi insieme questo penso sia anche una dimostrazione di come si può lavorare insieme e producendo effetti estremamente positivi per cui grazie a chi ha lavorato grazie a quanto è stato prodotto da parte nostra c'è il voto positivo grazie consigliere Feschi nessuno è iscritto pertanto passiamo al secondo intervento consigliere del ben prego è vero che chi vuole alza la mano lo approva o non lo approva però io penso che dovrebbe essere approvato un regolamento applicabile per cui questo com'è è tecnicamente inapplicabile perché contiene degli errori importanti per esempio e non è una stupidaggine la cilindrata dell'auto espressa in cavalli mi dite mi dite se chi è beneficiario dell'indenità di accompagnamento può avere la detrazione o no evidentemente questo non è scritto su questo regolamento ora se volete se volete disponibile andare avanti dieci minuti per correggere gli errori che ci sono altrimenti avete la maggioranza ve lo votate io no e teniamo conto che di fronte all'evidenziazione di errori decidiamo cosa fare non importa ok poi magari sul piano formale alcune cose non saranno fatte e l'operatore vi dirà cosa faccio di fronte a queste robe perché se sui beni mobili il possesso vale titolo tizio presta la macchina a un altro e lui non ha più il possesso di quell'auto allora dieci minuti scorriamo e facciamo le correzioni se volete con la ONI ci sono errori se tutti li approvano cambiano l'errore bene bene fate quello che volete grazie consigliere nessun altro iscritto a parlare dichiaro chiusa la discussione e do la parola all'amministrazione prego assessore Romor grazie assessore grazie presidente benissimo abbiamo fatto a fare una fase sperimentale di 18 mesi che ci permette di fare un documento che possa tranquillamente essere corretto essere messo a disposizione di tutte le forme correttive da parte dei tecnici avremmo fatto molto meglio se in fase di commissione queste persone avessero dato quella volta il loro contributo e a questo punto io non me la sento di interrompere l'evoluzione del documento perché decode non farà qualche giorno quindi io mi riprometto che questa fase verrà corretta al più rapido tempo possibile ed eventualmente l'assemblea dei sindaci se lo riterrà potrà riportare l'argomento in consiglio comunale così eventualmente se ci sono degli errori più degli errori importanti consigliere Bonato voglio dire che questo è un regolamento che va integrato con le leggi di Stato e le leggi regionali per cui il fatto dei minori che arrivano da altre parti d'Italia deve essere condiviso in una situazione di legge di Stato consigliere Cabibo la mission di questo regolamento è quello che ci aspettiamo tutti che funzioni meglio che sia integrato in tutti i cinque i comuni e che il lavoro secondo me il servizio è stato discreto è stato buono fino adesso soltanto proprio per le caratteristiche di singolarità dei comuni ha portato ad avere delle azioni diverse uno dall'altro ma è proprio il significato l'obiettivo di questo regolamento è cercare di migliorarsi ancora di più il concetto di sussidiarietà è espresso in questo regolamento è espresso molto bene quando non addirittura parla dell'intervento del privato del privato sociale e del pubblico è espresso in maniera molto chiara e l'ISEE parlerà sul concetto del della coppia si esprimerà sul concetto della coppia e darà un significato più preciso quindi aspettiamo le norme dell'ISEE per vedere effettivamente cosa si intende per coppia purtroppo una piccola una piccola riflessione politica il gattile me l'ha dato come spunto il gattile è che la regione ha fatto una legge contro il randagismo degli animali contro il randagismo dei gatti sulla quale c'è stato un percorso ma in realtà quello a cui volevo dire che pur non avendo parlato direttamente con l'assessore regionale della sanità ma se avete visto ci sono due interventi proprio quello che c'è riferimento a lei e l'eliminazione del bonus bebè che vanno in un senso diverso da quello della frammentazione dei sostegni così individualmente precisamente collocati l'idea dell'assessore regionale è quella di conglobare il sistema di assistenza e generalizzarlo nell'ambito del minore senza fare delle puntualizzazioni caso per caso questa è l'idea questa è l'idea dell'assessore questa è l'idea dell'assessore ma è l'idea dell'assessore che vuole arrivare non è non è non è l'idea qua dentro non c'è questa idea volevo soltanto interpretare questo discorso altre cose non ho non ho da dire penso sia chiudere grazie assessore dichiarazioni di voto nessuno iscritto bene dichiaro chiuso dichiarazioni di voto passiamo pertanto alle operazioni di voto allora pongo in votazione la deliberazione avente il seguente oggetto proposta numero 43 2013 regolamento per l'accesso agli interventi ai servizi e alle prestazioni di natura sociale socioassistenziale e socioeducativa erogati dal servizio sociale dei comuni dell'ambito distrittuale urbano 6.5 di Pordenone dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto l'esito della votazione è la seguente presenti 30 votanti 30 maggioranza 16 favorevoli 25 contrari nessuno astenuti 5 dichiaro la deliberazione approvata pongo ora ai voti la sua immediata eseguibilità dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto l'esito della votazione è la seguente presenti 30 votanti 30 maggioranza 21 favorevoli 25 contrari nessuno astenuti 5 l'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile bene vi ringrazio dichiaro chiusi i lavori buone ferie prego date la parola al consigliere del ben per cortesia siccome io ho fatto delle segnalazioni di errori vorrei cortesemente che quanto ho detto sia riportato per esplicito nel verbale del consiglio comunale va bene buonanotte a tutti posso prima di andare via possiamo almeno farci gli auguri e dopo discutere consiglieri auguri a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti